ma buonasera a tutti amici video spettatori e in particolar modo in una serata che si preannuncia più che speciale buonasera ragazzone professore io non so come mai ma non ho sentito nessuna introduzione neanche i miei ragazzi ma non ho idea del perché e io sono ancora in pre show quindi dovrà stare in silenzio per un minuto e trenta perché meritano la loro intro e poi scopriremo che cosa è successo ok 3 2 1 le tracce del destino appollano il passato tra lande sconfinate ostili e miti che noi studieremo ogni pokemon scovato abituati a venerarli come dei non guarderei il tuo mondo mai più come prima sai donna svela sempre nuove verità sabacco in sintonia con l'energia divina schivare la sua abilità siamo fatti di storie trasportate dal vento come un filo invisibile che ci lega a vento un nuovo mondo con i pokemon show me a power with the pokemon potente rapido l'attacco che ricordi e d'avventure sbloccherà un nuovo inizio con i pokemon fisi si è leggerà schiudito busce e vola via con me un nuovo mondo con i pokemon fisi si è leggerà schiudito busce e vola via con i pokemon fisi si è leggerà soddisfatti dal percorso l'investimento che si sta facendo beh questa opening è stata supportata da nordvpn let's go eccomi abbiamo sentito vissuto e guarda è impazzito perché io mi sentivo ma non hanno sentito neanche da questa parte cavolo vabbè obs lo fa guarda siccome non ha sentito nessuno te la faccio breve ti prego ti prego vai la faccio breve stavo dicendo che da professore pokemon mi rendo conto che ogni professore ha le sue soddisfazioni quando guarda il proprio allievo crescere penso a hook hook è stato campione in gioventù di canto e poi gli sarà scesa la lacrimuccia quando ha visto rosso fare lo stesso con il suo charizard no che poi è un charmander da lui regalato certo e stavo dicendo che anche a me è scesa la lacrimuccia quando il ragazzone ovvero tu hai insomma notato che c'è qualcosa che non torna che le colonne che trovi qua in giro sembrano più antiche della isui che già ti aveva promesso attraverso un viaggio temporale di essere antica di essere passata di essere radicata nei secoli della preistoria tra mille virgolette pokemon e quello che constatavo e che volevo che tu sentissi e che you're up to something or on something è molto importante l'osservazione che hai fatto e sappi che dalla nostra parte nell'equivalente delle tue anime oscure e insomma se ci sono sicuramente i ragazzi miei anche dalla tua parte che vogliono osservare la tua blind te lo confermeranno io sono impazzito dietro a popoli antichi pokemon ok cavolo ma ci credo dopo quello che mi ricordi te lo ricordi bronzong che abbiamo letto insieme questo popolo che pregava anche claydol anche bravissimo anche claydol questi popoli antichi di decine di migliaia di anni fa che pregavano i pokemon aprivano portali su altre dimensioni erano capaci di fare cose davvero che oggi il mondo pokemon del futuro non sa fare e quindi mi ha subito ovviamente colpito nella testa già dai trailer questa presenza di queste colonne oggi amici miei e quindi parlo a tutti novizi e insomma veterani oggi mi sa che se il ragazzone fa i passi giusti mettiamo le mani in pasta ragazzi mettiamo le mani in pasta come non le ho mai messe perché in blind non arriverò a fare commenti che grazie ai passi del ragazzone potrò fare ora visto che è la mia seconda volta mi preparatevi c'è oggi è l'europoli per quanto mi riguarda allora pronti allora figata e ora lascio a te allora per prima cosa tecnicismi le ho mandato il mio schermo aspetto il suo lei ha ragione adesso le mando tutto non sono abituato a questa cosa degli schermi perché in teoria mi hai mandato quello l'applicazione sì come come abbiamo passo due esatto perfetto così almeno ora ti mando la mia allora aspetta no moment ovviamente al solito ragazzi grazie mille pioggia descrizioni grazie grazie turbo dolci allora proiettore passo è quello qua tra l'altro come tu all'epoca adesso io ho provato visto quanto è occupato lo schermo di legenda archeus a cambiare grafica quindi quasi sono tutti emozionati grazie ragazzi eccoci qua ecco qua allora guarda io ti ho inviato tutto lo vedo stupendo adesso mi guardo il tuo tra tuttissimo ecco qua te l'ho inviato a 30 fps perché tanto 60 non li ve bravo esatto 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 inutile che ti rompo la connessione a un 60 fps che discord manda ma che tanto cioè sono frame che non servono in questo titolo poi particolarmente visto che comunque lo schermo è piccolo direi ti ripeto non li raggiunge quindi bella esatto è vero è vero non li raggiunge bene allora abbiamo visitato un po' dell'acquitrino vermiglio ma tu mi devi dire cosa anche perché non sei all'acquitrino vermiglio il professore con la coda dell'occhio vede che tu sei di nuovo alla landa ossidiana vero? io mi sono permesso solo di stare alla landa ossidiana infatti non ho in nessun modo avuto a che fare con nulla che riguardasse Roselia and company giusto giusto hai fatto bene questo perché mi sono fatto un giro alla landa ossidiana hai fatto bene per una nottata e mezzo ok quindi un paio di paio d'ore di gioco circa al massimo tirando si è stato incredibile è stato incredibile perché parlo proprio di permettermi finalmente di farti vedere lato mio che non sono mai stato in questa posizione il tipo di giocatore che sono sono pronto allora si aspetta sto preparando anche io una cosa lato ragazzacci che sono di qua così gli faccio vivere un momento a marcord vai cosa scusa c'è una distruzione spazio temporale? tra l'altro vattela vedere in diretta beh aspettiamo che si attivi ok vediamo un po' ok ok è alla pianura sabbia fine ok allora intanto ho scoperto una cosa solo una cosa ho scoperto perché non avevo mai liberato i pokemon con te ok e liberando i pokemon ho scoperto che ti danno dei regali come caramelle per poi creare gli oggetti di allenamento speciale e così via resa alla let's go questa cosa in realtà se c'hai giocato sì 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 esatto io ho messo in ordine i vari box perché ho tolto diversi duplicati ho girato solo per la landa ossidiana e guardiamo a full screen noi ok grande non ho fatto evolvere nessun pokemon ho messo i pokemon che potevano evolversi in un box a parte eccoli qua o meglio pori con no poverino però ralz psyduck magikarp e ghastly hanno la pokeball che brillava ma non volevo fare nulla off screen ok ho trovato altri ivi non si sa mai fa bene per il pokédex questo invece è il party che ho tolto ovviamente questo è il mio vecchio party prezioso che ora rimetterò in gruppo e per il resto quello che ho fatto è stato esplorare un po' tramite weird year trovare qualcosa sei già stato in una distorsione qui sono stato in tre distorsioni lo vedo lo vedo da qualcosa che appare ok ok nel box sì allora ho trovato nelle distorsioni non c'è bisogno che tu ci vada ok allora ok ok sì sì no ho trovato tre distorsioni e ho raccolto pezzi colorati e incontrato allora ho incontrato fammi vedere ti dico tutte le creature che ho sbecchi e ho beccato lì dentro ho trovato ok allora ho trovato un sylveon che mi ha sempre disintegrato a livello molecolare quindi assolutamente mai catturato purtroppo umbreon mi pare che fosse lì dentro forse no era nell'altra no umbreon è l'acquitrino ok snizzle ho trovato hunter ganger che dovrei aver catturato tra l'altro credo spero non mi ricordo steelix leaky 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 tongue sì e boss no quel leaky leaky non è shiny è solo la no no non è shiny con una drogata sì è vero anche io l'ho pensato a un certo punto quando l'ho catturato io ho detto ma l'ho catturato shiny e invece no mi so che ah beh qua ho messo i perfetto sto cominciando a mettere in ordine di alpha questa è stata la grande sorpresa sai che puoi cambiare il nome del box ah sì no come sempre però diciamo che ero ok ho poco tempo efficienza 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 e allora ho trovato in cima a delle colline bliss e alpha di livello 62 sopra le cascate ossidiana di livello fucking 62 come hai fatto a prenderlo? ah in realtà ho scoperto una cosa che credo allora non mi ha mai fallito ok quindi visto che il failure state di Arceus è praticamente assente e non succede nulla ok ho creato un party con pokemon che potessero fargli quanto più male possibile velocemente per esempio Snorlax con poltraggio e cose ah ok quindi hai usato giustamente i vecchi alpha ho utilizzato diciamo che non ho utilizzato quelli particolarmente strani sempre quelli della prima mappa quindi Snorlax quindi ho catturato due Snorlax perché volevo fare il Pokédex di Snorlax e lo buttavo giù e poi buttavo poverino mi dispiace ma alla fine l'allenatore deve fare il suo lavoro buttavo Aralx con ipnosi e in realtà anche se utilizzava Copa Uova il bastardo eh sì quando ho un pokemon rosso con ipnosi la Peso Ball è al 100% non mi ha mai fallito ok e anche io ho avuto l'impressione che le Peso Ball te l'ho sempre detto sì ma sai che la Peso Ball è fatta a livello di descrizione perché tu devi giocare Stealth quindi immagino che il Pokémon ipnotizzato o comunque addormentato conti come distratto esatto sì sì può essere può essere anche io mi sono dato questa giustificazione io ho quindi girato un po' anche Toxicroak era nelle nelle distorsioni sai sì ed era pericolosissimo ora lo so lo so e invece in giro normalmente ho trovato Gastrodon normale hai trovato Machok di sopra accanto ai glissi Machok esatto e basta sai il resto non ho trovato ti devo chiedere una cortesia dimmi visto che hai fatto questo bellissimo lavoro dimmi esci pure dal box sì hai catturato uno Snizzle sì lo hai catturato in una distorsione temporale sì ma hai usato tu sai da dove viene sai da dove viene Snizzle no è un Pokémon di Giotto è un Pokémon che vive nel Monte Argento il monte nel quale si ritira Rosso dopo essere divenuto campione per allenarsi e in realtà divenire un'eremita è così forte il main character dell'uno che si isola io me lo ricordo è il boss segreto è il boss segreto esattamente e proprio ai piedi del Monte Argento si trova si trova Snizzle ho capito ok però si trova in una distorsione spazio-temporale qui e ti aggiungo una cosa che tu non sai è esclusivo di questa mappa cioè Snizzle si trova solamente questa mappa tu sai se Snizzle ha evoluzioni non ha evoluzioni no io so che esiste Mega Snizzle no esiste Weavile ah ok allora ok mi ricordavo male ah no è vero sai qual è il pokemon vanette no 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 non puoi indovinare perché è un mio brain fart ok c'è un pokemon che quando lo scoprì durante X-Acylion mi feci innamorare di lui perché era non forte ma a me piacciono le cose di Flavor era incredibilmente resistente a tutti i tipi era difficilissimo danneggiarlo Spiritomb Sablai Sablai bravo esatto e mi dispiaceva che non avesse una Mega e poi gliel'hanno messa beh Sablai è gran Mega tra l'altro perché rimbalzava gli status era bellissimo Sablai molto figo e quindi ok Monte Argento ok lui ha una evoluzione che si chiama Weavile evoluzione con questa cresta rossa in testa vorrei che tu aprissi il Pokédex per magari avere suggerimenti su come ottenere Weavile perché è una evoluzione un po' particolare sempre stata particolare e quella evoluzione particolare è stata traslata qui quindi guardati bene tutte quante le e allora mi permetto di darti l'ultima sorpresa che non è uno shiny non è uno shiny però è allora allora sullo schermo c'è scritto no 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 non è quel che sembra incarichi su cui fare rapporto 99 è cappato io l'ho cappato molto in fretta e la seconda notte di gameplay in cui ho fatto solo Pokédex io credo di essere a 200 circa solo nella landa ossidiana solo nella landa ossidiana vabbè sono contento che tu ti stia divertendo sono serio sono contento sono genuinamente contento ho fatto delle cose allucinanti cioè allora grazie benedetto sia il gestione Moss perché per esempio c'era oh oh sì fai fare lacerazione a quel Pokémon ma l'ha già imparata sì figata gliela mettevi esatto comunque allora Pokédex voglio vedere quanti punti esperienza faccio vado vado dal Team Galassia e mi promuovono capo allora cercano pure direttamente sì è qui o ah beh guarda sono fortunatamente pochi quindi per ora sì certo certo allora intanto così si vedono anche i miei vari probabilmente è ancora grigio eccolo qua guardatele leggitele un po' tutte allora posso leggerlo no 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 non la descrizione no 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 io parlo degli incarichi allora variazioni di forme aspetto accertate volte che le fate evolvere cibo lacerazione esemplari catturati esemplari leggeri catturati esemplari scusate ti do un suggerimento ti faccio un indovinello da professore c'è qualcosa di strano in questi incarichi allora sicuramente snizzle è un pokemon che può ah allora allora ok una cosa strana c'è però potrebbe anche essere derivante dalla mia ignoranza di pokemon ossia di solito le variazioni di forma sono di sesso quindi due perché e le ho viste entrambe tra l'altro vedi due due punti due punti perché ce ne sono quattro a posto basta ok fico era questo nice sono contento non può essere giorno e notte immagino perché la distorsione temporale non è una forma no ma magari quando spawna intendo però la distorsione temporale è una cosa unica e tu mi hai detto che è esclusivo eh sì sì non c'entra nulla con quello che ti ho detto ma sì è in una distorsione temporale esclusiva di questa mappa ogni distorsione ha i suoi esclusivi questa mappa come distorsione temporale come pokemon della distorsione temporale esclusiva o snizzle ah quindi forse la soluzione del puzzle è sempre qui però è strano perché gli snizzle non penso che possano spawnare in maniera particolare dentro la distorsione magari il tempo non è vabbè vabbè ok tengo a mente tenilo a mente ok adesso permettimi o ha resistito una settimana vai vai vado a fare rapporto senza problemi signori sono pronto hai catturato 69 pokemon fammi un rapporto dettagliato si gentile preparati perché tu non esci di casa per un mese 69 tra l'altro il numero divertente attenzione ok eccoli vediamo 51.000 pochi dollari rapporto su tent pokemon completato pokemon alpha catturati 14 colpo le spalle 45 ok va bene e alpha 14 sono tanti sono probabilmente loro che ti bustano tanto i soldi ok ma conta che ora puoi capire più o meno in conversione credo di essere al 15esimo 16esimo episodio montato della blind run e ho ancora non ho abbandonato la landa ossidiana ogni episodio dura tra i 40 minuti l'ora e infatti io ho passato due nottate senza dire vabbè non posso fare niente giro un po' la mappa magari trovo un segreto no 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 stavo lì esatto esatto ok ok Pokedex ovviamente adesso dovrei leggerti tipo un mini libro perché ho 8 di ore ti segnalerò io poi le descrizioni importanti tra quelle che hai tirato fuori guarda se hai fatto Sneasel mi interesserebbe giusto Sneasel purtroppo no perché è solo nelle distorsioni eh però dipende da che attacchi ti ha fatto mentre lo cercavi di catturare ah lo ho fatto 10 no perché l'ho catturato e ho usato l'accelerazione eh no che ti pare se ne catturo uno entra nel Pokedex fatto oh condivide la medesima origine degli Sneasel di Isui esiste una variante regionale ma è di natura insidiosa la terra e l'acqua potrebbero esercitare su di lui grandi frutti ah quindi fondamentalmente io ho sgamato i due punti segreti perché tu nel gioco li trovi variante regionale ma nella distorsione ehm temporale della landa ossidiana bravissimo trovi quello segreto trovi quello di Giotto che ti ho appena descritto questi sono quelli del monte argento al monte argento si sarà aperto un rift e questi Sneasel sono arrivati qui ma questi Sneasel sono Sneasel del futuro il che tra l'altro spero possa dare a tutti una riflessione divertentissima sul concetto di forme regionali che in realtà avevo già anticipato in alcuni video riflessione ovvero minchiamo aspettate guardate che roba raddoppia i punti 7000 punti penso che tu abbia raggiunto serenamente il livello 6 comunque serenamente proprio ovvero che nonostante cronologicamente parlando l'allenatore trovi prima lo Sneasel di Giotto e poi quello di Isui che sappiamo esistere perché lo abbiamo appena visto nel Pokédex probabilmente lo Sneasel di Giotto è successivo lo Sneasel originale visto che è una distorsione spazio-temporale dalla quale escono fuori anche i Porygon è molto probabile che Sneasel poi migri a Giotto e si trasformi in quello che abbiamo conosciuto in ora argento e non il contrario chiaro chiarissimo certo capito? ah giusto allora no in realtà quello che hai detto adesso mi affascina terribilmente io sono ancora ubriaco di gameplay però è sensatissimo guarda ti posso dire una cosa allora aspetta non so devo essere onesto non so quanto essere ottimista che accada però io comunque tolgo la chat un secondo perché magari la gente si hai paura di spoiler ok io mi fido tantissimo di loro però magari si emozionano ok ho tolto ho tolto temporaneamente ti dico una cosa perché mi stavo dicendo mi sono emozionato di gameplay e ti stavo spiegando ho trovato il buizel di 080 non l'ho consegnato io non ho fatto nulla non mi sono mosso da qui anche perché non potevo tornare al villaggio senza fare il turn-in quindi ho catturato uno che era alto 080 ma non l'ho ancora consegnato al curiosone tuttavia cosa mi è venuto in mente che mi hai parlato di Sneasel no? e stavo pensando è perfettamente sensato mi piace perché credo che sia quasi inconfutabile sia la verità ma vorrei tanto sperare non so neanche se c'è il Pokémon quindi per carità di Dio e non voglio esagerare nel magari poi fare speranza che vengono disattese però non sarebbe figo e soprattutto per una volta una volta pensato anzitempo un pochino che magari ci sia una variante regionale finalmente di Quillfish con l'Espinone cioè ti ricordi che l'abbiamo letto adesso io non lo so se c'è ho tutto un chat e non non lo so quindi non dirmi niente però io ti giuro a livello è un capriccio che mi farebbe tanto contento però diciamo che il discorso mi arriva da Sneasel per il resto tornerò al villaggio vando a Buizel adesso aspetto un po' non si sa mai e via perché dai c'erano tre aggiunte in diamante quel racconto non lo so non ci non ci spero non lo so lo spero comunque allora adesso intanto io devo evolvere i miei Pokémon anche Golduck che si aggiungerà al Pokédex e ultima cosa da dire al professore che si è io sono qui in ascolto sono qui in ascolto sono qui in ascolto hai fatto come con i delfini ti sei messo gli occhiali per non far vedere lo sguardo esattamente io non ho detto niente non ho dato niente ho giustamente una cosa da raccontare l'ultima ossia che cosa ho droppato nelle distorsioni temporali ah si per favore perché io ho corso e farmato tutto quello che appariva e sono cose molto carine per esempio finalmente costava mille ho trovato un filo dell'unione evviva hai trovato gratis yes esatto chiaramente ragazzi è un oggetto meta ok non c'entra niente con la lore è un oggetto meta poi una copertura eh si magmatore mhm e vediamo un po' che altro pezzo cometa hai trovato l'upgrade l'upgrade il dubbio disco il dubbio disco esatto sempre cose del futuro mhm e poi una fila artigli che oh una fila artigli non sembra uno strumento che potenzia ma qualcosa per evolvere piace a un pokemon in particolare bravissimo quando leggi piace per un pokemon in particolare come puoi vedere eh sono oggetti evolutivi mhm eh diciamo che il il consiglio che ti posso dare sì è ogni tanto di girare con questi strumenti e di provarli no? ogni tanto vabbè fammi vedere magari eh su questo pokemon funziona su questo non eccetera eccetera fai un tentativo ogni tanto magari cioè usa una certa logica dietro però ecco sicuramente una fila artigli sarà su un pokemon con degli artigli vabbè si sneezel sighter sighter non sono artigli scusa è vero però sembra però si assolutamente ogni tanto provali ok? questo è il consiglio che ti do e credo che tra l'altro è uno dei miei pokemon preferiti in assoluto che uno di questi due mi permetta di ottenere porigone 2 spero non lo so però non ho provato quando vuoi puoi provare ok vediamo un po' me lo metto nell'inventario infine ultima chicca hai notato ti faccio vedere una cosa sono pronto vedi qualcosa qui che ti ricorda un brutto momento nella scorsa partita un brutto momento nella scorsa la pepita si è tornata te l'hanno ridata si che bello adoro ok rimetto la chat intanto bene ok a questo punto ti rilascio la parola nel mentre faccio evolvere parte del gruppo che ho lasciato qui ok non mi ricordo più come si gioca ah ok ok qua si si non ti preoccupare è normalissimo ma io ti osservo mentre evolvi le cose non preoccuparti siamo qua a vederti tra l'altro è anche un pezzo cometa che va venduto poi ok quindi sono soldi perfetto sono soldi si 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 non è niente di che se non appunto come vedi la ennesima dimostrazione che questi rift spazio-temporali sono legati al cosmo infatti ci trovi la polvo stella il pezzo cometa eccetera eccetera sia sono d'accordo comunque con la chat voglio che ti arrivi questa cosa scalda il cuore vederti così emozionato sul collecting e tutto il resto eh ma guarda considera che c'è una cosa che io ricordo tu mi hai detto di non fare non la farò finché tu non mi dici è arrivato il momento in cui puoi smanettarci perché io da gamer quale sono andrei subito a esplorare ma comunque mi terrei tutto per voglio il set finale di pokemon che mi piacciono però mi piace molto e per molto intendo molto il gameplay loop del cattura pokemon per ottenere il pokemon completo catturandone anche più di uno cosa che all'epoca era semplicemente una noia una cosa lentissima quando puoi catturare quattro in tre secondi se li accumuli anche se rimangono presto a poco inutili inutilità che viene trasformata nel liberarli e ottenere materiali per potenziamenti per il tuo pokemon principale questa cosa è figa perché io posso andare dalla pilla e convertire quei materiali in upgrade definitivi penso non so alle caratteristiche tipo di semi padronanza sì io ho la sabbia impegno no ah no 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 allora tu parli ok 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 gli strumenti impegno ok quelli allora ancora non li hai trovati perché non so che cosa hai droppato dagli alfa ok ok io ho trovato solo sabbia impegno e cose del genere ok ok a posto gli strumenti impegno sono i numeri ne avevamo parlato ti ricordi i numeri che vedi vicino alle statistiche esatto e la pilla non c'entra niente come? la pilla non c'entra non li trasforma in upgrade la pilla sì sì li trasforma che la pilla fa anche un'altra cosa ma ancora non hai ok ok sì 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 assolutamente sì io ho due semi padronanza però ho anche letto ma non ho cioè credo che possano far diventare le mosse abilitate ad essere rapide o potenziate bravissimo bravissimo pergamena le mosse praticamente ok perfetto nice però le sabbie io te le voglio far risparmiare oh sì ti devi fidare del professore per un momento specifico nel quale tu da vizio avrai bisogno di quelle sabbie ma non per vincere ma per avere il controllo totale su una specifica lotta o alcune specifiche lotte come ti ho annunciato già offline qui in questo gioco c'è la lotta io ho fatto vedere uno screen a mic ok questo lo dico a tutti censurandolo ovviamente e questa quindi è una cosa che non risulterà spoiler per nessuno anche per chi magari ha giocato a tanti giochi pokemon ma non ha questo quando è uscito il gioco uno dei commenti più upvoted di alcuni ricaricamenti della colonna sonora di questo gioco era vaffanculo a censurato un po' come il meme che mi fece vedere oh ma che bravo ma guardalo wow ok vai 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 noi ti stiamo guardando quindi fai pure bravissimo bravissimo vai evolvi snizzle bravo bravo così ti voglio ricordati però che quando evolvi pokemon non puoi più completare le task dei precedenti lo so infatti esatto esatto infatti devo stare attentissimo a non evolvere buizel ecco bravo comunque dicevo praticamente c'era questo commento che diceva vaffanculo a ormai è il try che cerco di fare questa sfida ma continuo a farmi il culo è una cosa con la quale posso relitare nel senso che tanti veteran tante persone che giocano a pokemon da una vita ma magari anche gente che gioca in competitivo ha trovato un muro in questo gioco troverai anche tu questo muro e questo muro è un bel muro è un muro fatto bene secondo me al di là di qualche piccolo difetto del quale poi parleremo e ecco stanno scrivendo adesso qui in chat ci ho messo due ore ci sta ragazzi ci sta un costrutto ok ecco per quella per quella live io voglio che tu abbia tutti gli strumenti a disposizione poi puoi scegliere che cosa usare però non mi perdonerei di averti fatto sprecare tutto in quel momento dirti eh puoi essere più forte di così tocca farmare è come se a mi dir io non avessi avuto le resine capito wow può fare direttamente guard e war eh si è la figata mentre in un vecchio gioco pokemon avresti dovuto comunque fare un livello esatto è anche questa quality of life immensa vai vai evolvi tutto evolvi tutto sai la cosa che mi è piaciuta poco di leggende pokemon arceus è che cioè tra le cose che mi sono piaciute poco è che non ti affezioni mai a nessuno in questo gioco e fa parte della narrazione non ti devi affezionare a nessuno sei un ricercatore però inevitabilmente dopo aver passato 26 anni a fare quella squadra di quei 6 pokemon non affezionarmi a nulla mi ha fatto specie infatti è una cosa che ho percepito tantissimo io non provo niente per questi pokemon perché sono strumenti in realtà tantissimo per carità è voluto sei un ricercatore tu non sei qui per affezionarti a loro tu sei qui per mettere all'aven di documentarli in parte se vogliamo è la distanza uomo pokemon resa gameplay è un gioco basato sulla distanza tra uomini e pokemon io mi sento legato un pochino giusto a qui lava perché è quello che ho preso però al di là dello starter tra l'altro mi sono sbagliato un'ora di grave perché basta ci vuole un secondo basta andare a ricatturare blissei ma potevo tenermi kirlia per il pokédex appunto il quality of life invece ho fatto sparare subito guard ok e poi il mio preferito bellissimo stupendo upgrade sai che porigone 2 è uno dei pokemon più forti competitivamente parlando è veramente forte porigone 2 porigone 2 e non porigone z attenzione questo mi rende contento perché porigone 2 lo preferisco molto a z e tu sai qual è la lore alla base di porigone porigone 2 e porigone z tanto tempo fa ricordo di averla cercata da appassionato ormai che bello che bello che è la differenza tra porigone e porigone 2 è il numero di poligoni infatti hai fatto un upgrade e da modello ps1 diventa modello ps2 esatto e quindi tutto rounded e poi con il dubbio disco tanto l'hai sgamato ormai ma non lo fare perché così ti fai le quest di pokemon di porigone 2 con il dubbio disco che è un upgrade glitchato diventa porigone z ed è tutto stupido porigone z non so se ti ricordi come si muove poi lo vedrai è buggato diciamo è l'upgrade che fallisce bellissimo allora ci siamo quindi puoi fare altri esatto consegnerei giusto la quest di buizel e poi basta si va e hai preso buizel di 80 cm ora non ricordo si si ce l'ho fatta ah ok perfetto perfetto ok andiamo anche porigone z è forte competitivamente parlando però con delle riserve nel senso che porigone z ha un kill power elevatissimo però porigone 2 è come la simmental mentre porigone z atti ci vuole un po' un team a supporto ecco però si esattamente ferdi ha ragione un giorno ti racconteremo come porigone z e clefeiri vennero sotto scacco il metagame di pokemon cosa ti vende ginkor vediamo un po' stavo controllando palle orgo non male anch'io anch'io posso vendere a lui no forse no oh tizio dai cioè dagli una caramella rara bro per favore noi andiamo d'amore d'accordo eh ma allenalo 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 ah ah ma ma che succede a beauty tiberto ah ok ah carino che devi interagire con loro per mandare ok va bene cioè per carità nel 91 era già così nei videogiochi però comunque è carino in pokemon è una novità scone ok è normale ragazzi che non vediate il mio schermo non sto facendo niente sta consegnando lui e voglio concentrarmi su di lui è la sua blind che vende la mia veteran posso c'è qualcuno qui posso vendere la pepita si lui puoi puoi a tutti i vendor basta che roemi ZR perfetto perfetto ecco qua quindi pepita e pezzo minchia bravi guarda là quasi 100k guarda li hai comunque i semi padronanza hai visto due si si l'ho detto prima no no nove hai nove ok no ma perché non li ho voluti esplorare perché comunque mi ero promesso solo di fare ricerche allora time to crescenzo ragazzi dai dai secondo te ce la fai voglio una cosa voglio una cosa voglio un tuo parere secondo te riuscirai a finire la quest di crescenzo con i soldi che hai no ok no decisamente no il bastardo guarda 8k era più onesto il korogu gigante davvero mamma mia 10k dai sei davvero sicuro di non riuscire a finirlo secondo me fino a 20 si arriva fino a 20 guarda 12 guarda come aumenta guarda come aumenta io devo comprarmi le cose comunque non ti do tutto ancora io speravo di sbagliarmi comunque oddio santo no serio dai vabbè ci siamo potrebbe essere l'ultimo step eh ma io non voglio rimanere con due con duemila questo ok ok ci sta ha senso crescenzo crescenzo scusa un secondo un episodio della mia blind run si chiama crescenzo di merda l'ho visto il titolo allora fammi controllare il tuo Pokédex ora devi cadere dalla sede e darmi un'animazione unica eh fai il 6 e secondo me passa ammazza Chiara mi ha appena rivelato qual è la cifra che non sapevo neanch'io alla quale si ferma ah crescenzo ok ok sì sì ok devo riparlarle? sì 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 non è questo il livello che è arrivato pentastelle dal team galassia solo grazie a metà un terzo prima seconda mappa e l'andosiliana le wig ball comunque se c'è un giocatore che piace fare min maxing e sfondare questo gioco lo sfondi cioè ti puoi fare un party di mostri alfa al prima l'andosiliana e farti obbedire tra l'altro farti obbedire però non senza sforzo cioè comunque devi fare un certo lavoro non solo ti assicuro che comunque anche se tu andassi con delle squadre al 70 sì a causa dell'equilibrio al 35 ti fanno male certo e non sì ti giuro che negli ultimi episodi della mia blind run andavo come i bambini che trovavi in spiaggia alle elementari che ti volevano fare il culo con Rayquaza andavo con gente grossa all'80 in giro e morivo dai pokemon a livello 30 che tra l'altro se si è piccoli o magari non si conosce questo tipo di numerazione si imparano esa stella a questo punto mi aspetto di essere enna stella alla fine fighissimo ma no secondo me no ah ok cioè non qui intendo non adesso no no scusa parlavo del termine che è carino essere chiamati enna stella oppure magari si diventa capitano sarebbe figo sarebbe fighissimo diventare capitano però i capitani sono diamante e perla non galassia galassia ancora non li ha no ancora non li ha è vero hai ragione le ultra ball comunque i ragazzi si chiedevano cosa sono secondo loro le wing ball guardate parlavano di varox ball non credo saranno una versione potenziata delle potrei vederlo poi in descrizione esatto di quelle leggere una bacca ah però i materiali sono sempre gli stessi ok io le parlo comunque ce l'hai 7 stelle non penso fare l'ottavo ma il 7 certo ma che veramente ero indeciso tra il 6 e il 7 ma ho fatto solo l'Olanda Ossidiana eh vabbè ma l'hai fatta bene l'hai fatta bene punto numero 1 e 2 l'hai fatta anche facendo lo skyrimmino con Stanzler ah è vero hai ragione è importantissimo ma ti dico calcolare cioè non hai non hai realmente rotto niente cioè premesso che ovviamente la difficoltà ovviamente sì ma alla fine il punto è anche se catturi con facilità la difficoltà del gioco non starà nel catturare cose ma nel vivere magari la lotta contro l'Alfa XYZ il quale Alfa XYZ rimane complesso che tu abbia le Ultra Ball che tu abbia le Peso Ball plus 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 quello che ti posso consigliare è contro gli Alfa almeno fino alla terza mappa cerca di goderti anche le lotte non cercare di catturarli solo in Overworld capito? no no assolutamente io guarda non mi metterò mai Alfa in party e non farò nulla del genere prima di avanzare vai a farla questo non mi ricordo assolutamente dov'è aspetta le missioni sono qui sotto perfetto non è vero mi sbaglio questo ok perfetto no vediamo un po' richieste eccolo qua grande ok ecco qua perfection very good ok grazie della pazienza ho fatto tutto guardali ma dai ma spawnano in maniera randomica intorno cioè hanno ma io avranno cinque posti dove stare ma insomma ah i biduf si 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 carini ora dormono sul tetto hanno lavorato tutto il giorno poverini c'è una questa e prendi uff non ci dormo più la notte Amelia ah ah non ti avevo vista ma ti pare spaventare la gente in questo modo addirittura non lasciamo perdere qualunque cosa tu voglia ne parliamo dopo ora non ho tempo tutto a posto eh in effetti potresti occupartene tu visto che sei un membro della squadra di ricerca il fatto è che ieri notte ho avvertito come una presenza in casa sentivo una specie di crepitio ho anche trovato delle bacche abbrustolite e si sentivano degli scoppiettii la questione va indagata e quando si tratta di indagini nessuno è più indicato di un membro della vostra squadra ti lascerò ispezionare la mia stanza strani eventi ah carino non so se l'avremo trovata di giorno carino eh te l'ho detto alcuni NPC cambiano posto e altri addirittura dialogo l'ho trovato l'ho trovato si è gigantesco ah finalmente meno male io ora te lo posso rivelare io ho dato un alfa e se lo tiene ah carino io non ho mai trovato un un bisel alfa esatto c'è c'è nel nella landa ma spona dopo un tot di stelle di rango diciamo membro del team galassia e quindi io quando entro all'interno del villaggio ho questo tizio con un bisel piccolissimo e un bisel che è più grande del villaggio perfetto ok molto bene nice mazza per tutto lo sforzo ok credo di e vatti a prendere anche esatto la roba che c'è alla lavagna ora chiamo weird e faccio spaventare tutti a volte si può eh lo so proprio per quel motivo che hai appena detto comunque io ti ho messo la colonna sonora top oh noi stiamo ascoltando betrayal mentre cammini per il villaggio no ma noi siamo qui ce la stiamo cillando mentre tu fai le quest allora eccoci qua eccoci qua sì sì crescenza di merda esatto ci sono tutte le richieste affisse va bene vediamo cosa c'è un mister maim dietro casa pare che un mister maim dall'atteggiamento sospetto si aggiri per il villaggio giubilo parla con mister sabino per saperne di più non ci sono altre richieste però se vuoi adesso andiamo avanti e poi le richieste le richieste non scappano la puoi fare adesso la puoi fare dopo come vuoi tu ah beh allora le smarco le super smarco vai vai ok allora no perché comunque immagino che siano non dico un centinaio ma saranno tantissime magari alcune super superflue se vogliamo sì mi affido a te allora ma quindi a lei non posso aiutarla adesso ma è sera però forse se le riparlo ah perfetto sì perfetto lo cerchiamo lo cerchiamo signorina allora ah in prima persona ah no ok posso farlo si puoi fare la caposquadra ma sarà un po ci sono dei peli neri sull'orlo peli neri primate allora no mi sa che non è nero è più giallognolo beige è vero è vero ci sono dei progetti edili arrotolati e degli schizzi raffiguranti magikarp hai visto che ci sono dei magikarp sul palazzo del tingalassia sono in alto sì le divise all'interno sono piegate con cura ora esce uno spiritom profumatico che forse qui dentro c'erano alcune ma probabilmente chiunque sia entrato se le è pappate esatto che succede che succede vabbè no ok c'era scritto che il rumore veniva dalla porta allora continuo ad esplorare vediamo un po progetti edili ahah ariamis lo specchio è coperto ariamis si si entra entra che cazzo il mondo dipinto di smirgol strano effetto se tu lo sollevi facciamo stare creepy questo suono ok è un po' molecolando nel gameplay nostro ma ah sì ho qualche droppatina aspetta che non ti preoccupare pitrate ogni tanto fai i dispetti allora ecco qua l'armato è succhiuso vuoi spirciare dentro siamo a livello di salentil 4 qua dentro ci sono degli strani vestiti e un mantello mi fa piacere che quell'interazione posso posso fare un appunto sì sapete che secondo me il fatto che abbia un mantello potrebbe voler significare che Karen e Sandra hanno in realtà la stessa famiglia cioè provengono dallo stesso albero genealogico perché in realtà Karen non ha nulla a che vedere con un mantello però c'è un'altra allenatrice di Giotto che si chiama Sandra che ha un mantello e ha lo stesso identico colore di capelli di Karen quindi secondo me Karen e Sandra a questo punto condividono la stessa antenata che è Amelia carino ma il gioco il gioco degli antenati è divertente da fare vediamo un po' che mi dice non è detto Amelia e quindi anche Lance sì certo Karen e Sandra formano Cassandra va bene sono pronta a scommettere che c'è qualcosa che si nasconde in casa mia ok va bene torno dentro torno dentro Amelia perdonami ok no stavo vedendo una roba di montaggio assurda che sta facendo Chiara sul gameplay ok torna pure dentro sì sì allora presumendo che di gameplay sarà sicuramente un'interazione abbiamo interagito con lui qui niente qui niente qui abbiamo fatto Magikarp le divise sono arrotolate divise arrotolate qui abbiamo questo segretino del mantello e ora forse e ora proviene un rumore dall'entrata dall'entrata forse nel secchio ok ah ok una sequenza solleviamolo growlis no crepe crepe scintille quindi peli neri e scintille peli neri e scintille è un luxio ho pensato la stessa cosa in blind ah dal tatami ah questo non è un tatami ah sì oh e no quello che ho no carino oh catturo immediatamente con la pokemon esci fuori non c'era niente aspetta questo piccio non sarà pare davvero d'assurdo ma credo proprio che sia il piccio ferito che ho trovato nella foresta probabilmente l'ho ferito io una bacca per me vuoi forse ringraziarmi per essere presa cura di te oh piccino piccino ciao credevo di avere in casa qualcosa di pericoloso ma mi preoccupavo per nulla aspetta può comunque farti electrocution esatto tenevo un favore ecco come ringraziamento per avermi aiutata fantastico sei sforzata sette baccabana le ha prese da piccio e le ha date a me mancando anche di rispetto e affetto per la creatura ok se fossimo nel mondo reale mi avrebbe dato un topo morto un pipistrello che le ha portato il gatto ok avviamo poi continuo a sbagliare continuo a sbagliare meno y esatto eccolo qua vabbè c'è un delirio però e no perché ci sono anche quelle da fare in giro esatto in giro si 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 e un po' qual era la quella di mister maimera da fare qui vero però aspetta questo mi sa che è finita perché l'avevo già fatto un fungo da studiare vai a parlare con maia e salvi la giubilo sta dormendo io sto entrando in casa ho preso le cose segna ok molto bene ah si rispondendo alla chat si ho trovato mi pare 4 5 massimo 6 non di più fuochi fatui alle lande ossidiane me ne mancano tipo 8 o 9 sono 20 se non sbaglio mappa ok si me ne mancano poco meno della metà ho fatto certe quando lo vedevo lontano ho fatto certe bestialità con weird è perché hai visto quando è notte sono lontanissimi si è bellissimo infatti per fortuna è bellissimo è sano legge pure che qui hai qualche piccolo momento di lore esatto di lore pokemon di biologia adesso anche ad alta voce assolutamente sta tornando parasact non ho ancora mai avuto modo di osservare dei funghi cresciuti su dei pokemon sei cattuto di un parsact potresti cedermelo guarda ti porto il ce l'hai ce l'hai puoi farglielo vedere dal box ah oh benedetto sia altra quality ok no beh diciamo che più che quality questo è una sorta di bypass della mancanza di poter raggiungere il pc come sempre si certo questo è alfa te lo regalo dai no è tuo mo si si spaventa a mord guardalo ah che fungo di dimensioni eccezionali a galera non ho mai visto esemplari simili ma tornando a nobel ti pre ti prego dimmi che che è perché è alfa ma tornando a noi dove è parasact non vorrei dirmi che è questo fungo vero si muove mamma mia che paura esatto il fungo si è girato è lui tuttavia il sesto senso che ho qui tutto grazie i miei vent'anni di essenza mi fa pensare mi sta venendo una battuta di cattivissimo gusto la saltiamo una cappella gigantesca no 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 stavo pensando a qualcosa del regato al riuscire a non cagarsi addosso però che sta davvero il fungo a muoversi certo come no una cosa del genere sarebbe impossibile e invece come ti spiegavo l'altra volta esatto è proprio così gli occhi vacui di parasact parlano chiaro è uno dei pochi pokemon che muore con l'evoluzione il fungo prende il controllo dell'intero corpo e quindi in realtà paras perde ogni forma di volontà il fungo evolve a sua volta il fungo diventa concretamente un pokemon sì vero giusto il fungo diviene pokemon controllando il corpo di un pokemon esatto un pokemon il cui corpo è cosiddetto da un fungo no no lo sto vareggiando è bella però sta cosa in realtà ti da un insight che magari chi conosce pokemon sa già ma che permette di avere narrazione sulle creature che in molti capitoli non ci sono di solito è no quanto è rosa il mio coferi bravo 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 esatto credo che può esserci perché il resto è ah no maister maim mister maim allora mostra non ce l'ho questo ponita insolito vabbè mister maim raccogli porta non ce l'ho il papozzo non ce l'ho questo da fare mostra bene la pagina e non ce l'ho ok per fortuna non è troppa roba c'era una fiammella poi l'ha raccolto è despaunata ah no perché ok era era spavolata prima che apparisse la la vedi lì esatto la raccolta è terminata un buon raccolto proprio come previsto è tutto tuo andiamo un po' quattro felci tonde fagioli paffuti spia addirittura è per la quest tra l'altro radice amara che cresce sulle spiagge ma ben adattata anche al freddo se marinata assume un sapore dolce e piccante viene impiegata per preparare i doppi aceti ehm sì funghi vai mi ha molto soddisfatto avere oggetti nuovi ok cosa ah mi sembrava il nome di un pokemon ok è lui sì sì adesso lo cattutirei una pokemon portalo all'aven ancora 5 fiammello ok vado a prendere il mister mime non so mi sento in colpa sto facendo tutto da solo ma guarda che lato nostro sta essendo super divertente ok ora non so magari anche tu hai passato delle live a guardarmi e basta certo però poi quando sono io nella posizione mi sento ok no 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 ok let's go let's go ma poi fidati che faremo oggi venerdì sera possiamo andare avanti un po' fidati non ti preoccupare che giochiamo posso riposarmi un po' qui al villaggio tra i pokemon che mi seguivano tutto il resto nella landa me le sono proprio viste brutte alla fine però di bacca arance ne avevo fin troppe poco male quelle avanzate me le sono mangiate io ho fatto anche bene a chiedere al ragazzo che sta alla sedia di aumentare la capienza del mio borsello no sciocco non farlo a ogni modo scommetto che sei qui per quella faccenda di cui ho parlato il professore vando alle ciance allora vuole che indossagassi sul mister mime che si è stabilito nel villaggio non si può mai stare troppo tranquilli con un pokemon selvatico nei paraggi e poi ha un atteggiamento sospetto beh mister mime è sospetto per definizione per qualche motivo la squadra di vigilanza non ha voluto occuparsene chissà ma spero che un membro di quella di ricerca in gamba come te mi possa aiutare ricordi nella serie animata mister mime faceva le pulizie a casa di Delia Ketchum no non ricordavo faceva la stessa il cameriere aspetta che lo prendo alle spalle così prendo il fuoco fado questo ah si è si è presa il suo si è dolce ok 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 perfetto oh cos'era quel suono da Looney Tunes è lo stagista che non sa animare allora va sulle librerie suoni.com capiranno che è scappato è scappato di là se è scappato vuol dire che ha la coscienza sporca dobbiamo assolutamente scoprire cosa sta combinando ok tra l'altro è scappato là e ti dicono esattamente dove facciamo così sì finché è notte e vedo le lucine comunque per me adesso è canonico che ci sia bitrayal qui dentro al villaggio perfetto è perfetta poi ti riguarderai la mia live assolutamente con te che fai le quest sotto sta musica incredibile io sto volando cioè qui potrei essere io un membro del club della cannetta stasera in notturna i fuochi fatui sono intrappolato no dove ti hai infilato ah tanto c'hai il tracker sì sì oh no si è trasformato sabino mi sembra mi è scappato da quella parte ho capito ok ok high quality gameplay allora che succede ok che succede che succede mira mira che cazzo oh sta usando riflesso sta usando riflesso è palese ok faccio il giro c'è un muro invisibile ha fatto ha fatto reflect è un mimo vabbè ora concordiamo insieme che potevano mettercelo un effettino tipo quando decchi il muro anziché guardano guardano cioè non c'è neanche l'effettino non è possibile hai capito c'è un effettino un tinti ora ora mi sono mutato prima per dirlo ai miei perché non volevo farti spoiler ma quello che ho detto allora lo posso dire anche a te e ai ragazzi che insomma ti stanno seguendo di là questa è una delle quest a livello di idea più fighe perché ti spiegano che Mr. Mime fa sta roba esatto e poi vedrai insomma come verrà contestualizzata però cazzo se è realizzata male cioè no non è realizzata non è realizzata bravo cioè non è realizzata sta roba di solito è un bug cioè dovrebbe cioè bastava non so un riflessino no un un'increspatura dell'aria per farti capire che anche perché è anche una citazione alla palestra di Koga questa però probabilmente tu non te la ricordi però c'è anche una citazione a una palestra storica di Pokémon ma cazzo un minimo di crespaturina va bene di qua non si passa cazzo oh mio dio sono intrappolato per sempre eh mi dispiace ragazzi è finito il gameplay bella veteran run finché è durata che ho fregato merda no si ok io all'inizio sono d'accordo con voi io all'inizio ho pensato fosse un bug ma è impossibile non farlo io all'inizio ho detto cazzo si è buggato il gioco eh si ho cercato di glitchare la mappa come dire particolare ti fanno paura carino c'erano muri invisibili che storia ormai è questa forse ho usato un potere misterioso devo trovare quel mister maim vieni anche tu presto andiamo 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 combi trial tra l'altro questa quest è perfetta assolutamente si perché lo sta facendo per essere ucciso mister maim poi vedrai la faccia quando farei il rewatch la faccia che ho fatto quando hai detto che volevi fare questa quest guarda come ti guarda sputagli mira sputagli no ti sputi in faccia esatto però potresti sputando vedere cosa è una barriera e cosa non ok praticamente è la caverna di sythil senza scaglia senza neve sta scappando di nuovo dove vai aspetta ora arriva con la carabina ah non riesco a passare c'è qualcosa di invisibile no no è il suo pene eh ma perché con la bocca aperta così è fantastico salvo conosci questo mister maim eh sì pare che sia in grado di costruire pareti invisibili quando fa quegli strani movimenti davanti all'ingresso i pokemon selvatici non riescono ad entrare è un pokemon mansueto mi aiuta a fare la guardia quindi lo lascio fare un giorno rimarrà intrappolato pensa a te così stanno le cose allora e io che ho pure mobilizzato la squadra di ricerca beh hai fatto bene comunque adesso sono molto più tranquillo certo che con tutti questi muri invisibili bisogna fare attenzione persino a quando si cammina per il villaggio guarda che stronzo va bene è stato molto importante ora possiamo andare sono pronto very good andiamo vai pure all'acquitrino vermiglio allora schermo aggiunto e via devo purtroppo togliere il betrayal che poi appunto mi era piaciuta molto perché ti spiegavano praticamente che mi metto in notturna anch'io fai così dormi fino alla notte così ci abbiamo il sincronizzo dormi anche tu così almeno proprio fai fino a notte fonda aspetta che sposto una cucina ah si si e ti dicevo scusami cioè è carino perché ti spiegano proprio che addirittura mister mime viene integrato nella società umana perché funge da difensore da barriera per le creature esterne per i pericoli esterni e quindi mi è dispiaciuto non avere quel riflessino lì quell'effetto grafico che sarebbe stato un coronamento di una idea molto carina cioè ancora più carina del parasect che ok si è un momento di narrazione ok però poi alla fine la quest è catturatelo e basta invece qui attraverso la quest ti avrebbero raccontato il pokemon e lo fanno ma si rimane in testa solo il modo in cui rimane intrappolato nel nulla esatto ok peraltro è vero avete ragione in unite in pokemon unite nel moba di pokemon mister mime agisce prevalentemente attraverso le barriere comunque il mondo è tuo i waypoint pure figata ora ne mettiamo uno quello che voglio fare prima però è scoprire cosa posso craftare quasi un cazzo ah vedete ragazzi ci avevo preso ma era intuibile che fossero versioni ancora più veloci delle piuma bravissimo che tra l'altro non l'ho mai usato fino ad ora per ora non ho sentito il bisogno vediamo un po' gigaton ball versione potenziata al massimo della peso è troppo pesante ma se colpisce un pokemon distratto ha un'altra proprietà questa faccio come la katana di dark souls 3 te la banno ok perfetto ti dico io quando assolutamente d'accordo facciamo ne ho già 30 belle che sono non le prendo ma sono belle bellissimo il design con le colline bellissime ok vado aspetta no vediamo un po' abbiamo fatto tante cose carine allora ah si si ci manca praticamente tutta la parte della palude al centro si ora io ora guardo la tua mappa ma sarà la stessa mia e infatti è così si dimmi tu dove vuoi andare e io lo set up allora io ti direi che il nostro obiettivo sarà vedere il lago accidenti allora vuoi passare poi intanto a farla questa principale mentre facciamo un pezzo di questo principale prendiamo la richiesta e intanto si va ok il waypoint quindi al lago ci sto per fare il percorso fammelo vedere proprio anche come vorresti procedere vuoi passare per la melma del merda in mezzo oppure da sopra io vorrei passare da sopra niente melma ok raggiungere questa richiesta dare un'occhiata al lago e poi tornare alla principale e poi no guarda la principale la facciamo adesso questa ah ok ok facciamo la principale richiesta occhiata al lago poi da qui ti metterò il segnalino qui giù e si fa tutto il centro ci sto dai evviva allora i casti non mi interessa ormai è una cosa bella che potrò catturare molto meno roba perché eh ma è sempre più così il gioco figo cioè io sono arrivato all'ultima mappa in blind che andavo dritto perché avevo tutto esatto esatto ci sta cosa mi ha visto che bello che apore con due ah 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 che bello mi piace che tu ti stia affezionando lui ah mi sono sempre piaciuti i pokemon mac magneton magneton dactrio sono che pokemon mi piacciono un sacco guarda queste colonnacce eh ma infatti mi piace da morire quanto hanno voluto spingere durissimo sull'estetica di queste rovine ti posso fare una domanda vai da oggi in poi ti stuzzicherò perché cominceremo a entrare nel vivo sappilo la domanda che ti faccio è vai abbiamo detto che probabilmente questa era una città in qualche modo no sì certamente e tu mi hai detto addirittura i ghastli sono qui e quindi forse c'è morta gente che spiegazione ti dai adesso se dovessi tirare a indovinare sulla completa distruzione di quello che è intorno cos'è successo allora effettivamente è distruzione beh sì questo direi che non è neanche una teoria cioè è tutto rotto ok non è una rovina del tipo è passato del tempo e si è eroso ti sparo una cosa che mi è venuta a flash ok i casi sono due ma ti dico no no includo tutto in uno solo sì ti ascolto secondo me quello che è accaduto è stato un grosso errore da parte probabilmente del popolo e non solo visto che comunque i pokemon non sono creature prive di senno che ha causato una sorta di anzi no sono comunque due le opzioni una sorta di di rottura c'è stato un berserk dei pokemon una sorta di furia alla monster hunter cioè qualcosa l'equilibrio uomo pokemon si è completamente distrutto ok e il loro popolo è andato perduto a causa probabilmente proprio dei pokemon e potrebbe essere colpa degli uomini e Arceus ci ha mandato indietro affinché non accada di nuovo te la butto lì perché così con Isui non accada più cioè visto che Isui è già sfiduciato già ha paura già fanno evitiamo che accada di nuovo prendiamo un allenatore che è parte di un altro spazio l'opzione due quindi tu dici Arceus dice no stavolta no cazzo diciamo di sì ok la seconda un pochino meno elaborata e quindi forse più plausibile è colpa del misterioso leggendario cattivo che stiamo inseguendo cioè è lui già al passato che comunque non credo sia Ghiratina perché appunto ne abbiamo parlato la scorsa volta sarebbe figo sarebbe molto figo molto legato in maniera lineare a tutto collegato con tutto però per come l'abbiamo vissuto nei percorsi di narrazione di segreti che mi hai mostrato in diamante e perla non farebbe nulla di questo non sarebbe così io ti metto un po' di puntini ti ricordo un po' di cose è passata una settimana ma credimi le cose che ti sto per ricordare non è che aggiungono sottraggono a quello che hai detto ti ricordo che A il team diamante e il team perla in passato ha avuto un conflitto poi risolto anche se non sai come e quando però ti hanno detto che ci sono state in passato delle diatribe molto forti tra team diamante e team perla molto più forti del semplice batti beccare di damon e perula e che c'è un antico eroe te lo ha citato Rizza si tu le ricordi l'antico eroe è vero basta hai ragione l'antico eroe l'avevo dimenticato hai queste hai queste due informazioni aggiuntive sul passato ok hai ragione l'antico eroe di cui però non c'è nessuna rappresentazione statuaria c'è di statue o niente no aspetta che cerco un secondo Geridas esemplari catturati in aria perché è un pokemon volante eh sì vabbè è un drago cinese ok giusto è un drago cinese sì sì trovarne uno volante non dovrebbe sorprendere che figata oddio ok morso tifone non ce l'ho credo tecniche potenti viste allora vediamo un po' se ho mosso poi si va a fare l'esplorazione anche sgranocchio cioè a posto anzi no torna uh figo ammazza gg ok che bello che stai facendo management allora andiamo mi piace mi piace anche se devo cominciare oddio non ho ancora sentito il bisogno però voglio proprio provare voglio provare basta cosa dove andiamo no dicevo lanciare una palla orb oh sì tira la terra ti crea quella zona che è stealth ok esatto quello però è per il rumore se tu vai su furtivizz se tu ti tiri anche un furtivizzante ok ok vai libero cioè vai proprio libero quindi questa copre alla vista ma non il rumore esattamente se tu tiri furtivizzante più palla orba sei praticamente invisibile se non per ovviamente cioè il tirare addosso la roba ai pokemon certo certo ok let's go mira noto che hai recuperato la lastra di pietra i miei complimenti mi rendo conto che in molti e molti considerano la signora genaria e inflessibile dai modi anacronistici ma devi capire che ha dedicato al team perla tutta la sua vita di certo non priva di fatiche ha trascorsi i suoi verdi anni qui a iso e riponendo la propria fede nel sommo sinno più che provare odio per il team diamante o il team galassia possiamo dire che nutre un attaccamento eccessivo per il team perla cara mira ti prego di placare ursa luna ne va dei miei affari non posso certo commerciare in sigli condizioni ok ah chissà se possiamo leggerlo vediamo di nuovo qui e a che pro giovanotta io rimango del medissimo avviso pezzo di lastra oipo ma ti sei dunque adoperata per recuperare il pezzo di lastra e perché mai avresti fatto ciò per una perfetta sconosciuta desideri a tal punto placare la colera di ursa luna se possibile non ho mai incontrato nessuno che tenesse ursa luna quanto me dice la stessa cosa qui ok su consegnami il pezzo di lastra da brava non commenteremo vero nel wifi non soltanto il wifi nessuna di loro due e neanche etelo con loro sarebbero mai riusciti a metterlo là sopra ah no l'ha lanciato praticamente no beh i pokemon i pokemon abbiamo si dai in bocca a gheridos si un po' si ok ecco fatto rimessa a nuovo oh tutte le vite ne incontrano altre per creare incrociano altre per creare qualcosa di nuovo ah ma è praticamente lo stesso è la stessa perché è la conferma se tu non lo avessi ancora capito esatto è lo stesso identico posto di diamante e perla diciamo che nessuno può biotivare il non averlo capito però appunto è per quello che ti dicevo cioè in realtà per me questo non è stato un bel momento della blind run come ti dicevo perché avevo già capito che fosse quel posto e quindi mi è dispiaciuto un sacco perché questo posto qui era molto più bello dell'originale si 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 mi diciamo che non è la stessa cosa però capiamoci è un po' come se tu avessi raggiunto Irid Thiel fosse stato così bravo si capito cioè no più che Irid Thiel arrivi alla cattedrale di Anor Londo ed è una stanza però c'è dentro Ornstein quindi è la cattedrale di Anor Londo ah adesso scusa ragazzi scusate scusate no scusate ma era il piatto era da damantio scusate ma allora non l'ho fatto apposta perdonatemi con tutto il cuore allora qualcosa di nuovo qualcosa di vivo fammi leggere cosa vi ho inciso eh vabbè ok ma certo ciò che riporta questa iscrizione non è poi così dissimile dal mondo in cui le nostre strade si sono incrociate per recuperare la lastra non trovi? ma eh non l'ha mai letta prima? in cent'anni che lavora nel Team Perla è imbecille evidentemente no l'ha letto l'ha letto ok te lo dirà dopo ah ok 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 ah è per ah sfrutta l'occasione per raccontare cioè per collegare le cose oh che dolce è un messaggio che ho letto numerose volte nel corso della mia vita ma solo ora posso dire di averlo compreso appieno che anche esso che anche ciò sia parte del volere del sommosinno in questo caso più che mai si genaria in realtà si stavolta si davvero sappiamo che lui crea praticamente con gli annon accanto lo hai visto le rovine singe io mi riferivo soprattutto al fatto che questo evento è nato proprio a causa sua vero hai ragione noi siamo qua hai ragione necessito del tuo supporto per soccorrere ursalone è indubbiamente addirato ma sembra non abbia ancora perso del tutto il controllo sommistrandogli una medicina dovremmo riuscire a fargli recuperare il senno far lottare tra loro i pokemon non va al di là delle mie capacità e della mia comprensione ma tu mira sei senza dubbio la persona adatta a questo incarico il luogo prediletto di ursalone è l'altopiano melmoso raggiungimi lì non appena avrai terminato i preparativi eh servirà un po' di tempo figo eh sì è vero è vero è vero ok figo e stavo pensando quando parlava della medicina che quindi si passerà da un guenti balsami a medicine quindi in base al pokemon tu vai a mettere diversi materiali e sostanze e mentre ne parlava ho ripensato all'opening e l'abbiamo detto la scorsa volta ma porca miseria quanto sarebbe stato preciso il multi qui dentro sì io ci ho sperato vedendo la box art con i due allenatori io ci ho sperato fino in fondo che fosse possibile fare coppia vero 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 allora guarda quante rovine figata eh sì sì ho sbagliato te l'ho detto qui secondo me c'era proprio una città se ti può consolare può consolare anche tutte le persone in blind qui presenti è praticamente un unicum questa bruttura a livello loristico delle rovine flemma ci saranno tanti altri posti che ci daranno molta più soddisfazione mi sono ricordato guarda è vero rals perché ero paura che scappasse ha utilizzato una piuma è fighissima è velocissima avevo completamente dimenticato di averla usata ottimo e fammi solo mi sono dimenticato mi sono dimenticato di controllare guarda guarda aspetta allora alfa cavolo oh no internet di volte hai sconfitto con mostri magi brillio internet allora magi brillio no ragazzi io non ho raggiunto ancora il rango 10 no ok oh ok perfetto e no qui lava lo riprendo presto ragazzi voglio solo fare il pokédex di queste creature e via si si ma guarda giocatela come vuoi te l'ho detto ok è il momento di ah no aspetta ok abbiamo una fiammella si una fiammella non capisco perché continuino a essere desincronizzati i nostri weather nonostante è vero il ciclo il ciclo è non capisco strano porca miseria ah già ma io sto andando dalla parte sbagliata perché tu stavi giustamente andando in su me l'ho le vide ok no stai facendo le scarimate pazze eh si perché bisogna esplorare abbiamo fatto il sopra questa è una strada breve ma va fatta bene allora ecco qua ma io ci sto eccomi ecco sto per arrivare su anch'io eccoci ok ci sono ci sono ci sono wow andiamo un po' beh ecco la parute che non faremo adesso si la vedi all'alto praticamente c'è uno skunkie carino si c'è un violugo di altri esatto esatto ferro preziosissimo ferro prendi prendi importante per molte ball figlie esatto c'è un po' ah ma ma proprio mappa questo campo ma c'è un botto di roba a nord mica la cosa cosa hai detto che c'è un botto di roba a nord non ci ho fatto caso la mappa si estende moltissimo colpogone un fungo fungo utilizzato nella preparazione super colpi super colpi si è mangiato aumenta la concentrazione e la probabilità di sferare brutti colpi ok cosa sono pokemon no cosa vedi eh non piros sono torce sono torce non solo pokemon ok ok perché non erano ancora state caricate le basi allora mi aspettavo una figata di fuoco allora che c'è qua sempre che cos'è un burmi spaventato però ti ho già ne esistono di colori diverse eh si è una forma diversa controlla pure quella lente di ingrandimento ok cambia il typing di questi burmi questo è puro coleottero oh carino controllalo di tanto in tanto ok 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 vediamo un po' ehm qualcosa che faccia poco male dai sono molto contento comunque che tu abbia deciso di esplorare il nord della mappa stasera ci si diverte oh grande non burmi però eh ma c'è gente qua vabbè dopo 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 adesso si fa il volo eh che se mamma mia ahahahahahahah dai YOU for no vabbè ma tranquillo tranquillo non non niente di diverso da quello che i ragazzi vedranno su youtube Ahahahah Invece è un funcofato Ok, ciò per lo celeste Andiamo a prenderlo, se lo puoi Chi lo corri? Preparati torrent perché farai lo stesso Allora Funzionerà meno ma farai Spero, esatto, spero funzioni meno No, qua non si può Ma magari Sai cosa è una cosa che puoi provare Che io ho utilizzato a volte Durante la mia nottata Disvocare e rievocare Weirdir mentre salti Così ti si aggrappa praticamente Ti fa la furbatia Ti spawna leggermente sopra Oh Zubat Ok Sono quasi stupito che non ci siano un pokemon qua sopra Secondo me qualcosa ci sarebbe stato Visto che abbiamo trovato Blissei super raro Già Ok, Ugo Che figata, guarda, Cresta Mardinubi Foglia regina Foglia regina Preziosa Quello è il campo dove siamo partiti? Si Carino Che si veda Grazie a Dio Oh Aia Sudofudo Che bello Ok, vado Esemplari catturati senza farti notare Ok, sconfitti Ma se acqua Mosse acqua Mimica Giustamente Sembra un po' Ricerca Dovuto giudicorda Allora, è il momento delle bacche Poi c'è un paras Sudorima No, è scappato Ah, ho trovato una peso normale Perle Perle Tra l'altro, Sudofudo Se stai fermo c'è un'animazione divertentissima Se ti avvicini a lui fa finta di essere un albero Si immobilizza Se ti vede Fatti vedere Ok, ok, c'è un altro lì dietro Questo intanto è ovvio No, che rumore ha fatto? Oh, non uscire mica, eh Ok Guarda l'icona Bruttissima Mostra No Hai visto? Si ferma Fa finta di essere un albero Ecco Devono necessariamente Non smettere mai di farlo E anzi migliorare tutto il resto Però È comunque Un bel lavoro Per creare animazioni uniche Per così tante creature Vabbè, c'è da dire che Con il recente Indirizzo Di mettere poche creature nei giochi Si può fare Si deve fare E decisamente Lo facciano cazzarola E poi Possono mantenerle Per utilizzarle Quando ne aggiungono tanti Allora Non può mica morire Burmi È per la collezione Ok Ah, che cosa c'è? Ah, Paras Ok 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 Sono contento di aver già trovato un Pokémon nuovo Ok 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 Oh no, eh Mamma mia Sono molto Elusivi, eh Chi? Il suo dovuto Sì Oh, che sferla Ok Ok C'è anche un piccolo laghetto Oh no Oh no Sei caduto Oh, Roselia Santa Vai, vai Comincia a farmarla Che c'è la subquesta tu di Roselia Esatto Ok Sconfitti Catturati durante il giorno Ottimo Il resto del giorno Ragazzi scusate la tosse Ma prima o poi passeremo Allora Non ti ha paura Ok 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 Cioè? E scappano Ah Pensavo ti stessero facendo male No, 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 no Non scappano Sì, sei un vassato. Sono delle merde sfuggevoli. E dai. Dai, piccolo. Vola. Stava guardando il suo PS, Roselia. Secondo. Mi sta laggando. No, no, ho fatto il contrario. L'ho provato a rimettere su Libby Trades. Ah, ok, ok, hai fatto bene. Ok, ce l'ho fatto. E' andato dritto, ragazzi, questo giro. Vai, 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 piccolo, vai. Ce l'hai fatta. Bravo, bello di papà, bravo. Ok, sei da Roselia, dunque. Yes. Scusate, ragazzi, voi non avete visto niente. Oh, una fiammella. Oh, una fiammella. Ahiai. Ahiai. Quello sembra grosso. Ahia, ahia, ahia. Ora, il problema di esserti fatto salire il livello di ricerca così tanto, problema, insomma, la feature. Sì. È che adesso sei pieno di merda. Ah. Sei pieno di roba pericolosa che non dovrebbe spawnare la prima volta qui. Ah, 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 ah. Ma che visto che il gioco dice, ah, ma questo è bravo, allora glieli metto. Sono pronto. Non lo catturerò, se non combattendo. È tosta, ma ci puoi trovare. Uff. Guarda, ti osserverò in questo caso. Ah, ok, sono pronto. E farò così. Per dare ai ragazzi qua un... Porca miseria, ma che cattivo. Eccomi. Ok. Beh dai, una paralisi, buono. Esatto, hai già qualcosa. Allora. Non posso cambiare Pokémon. Allora. Vai. Ok. Nice. Cazzo. Ok. Dai. Vendicati per Shenia. Esatto, esatto. Ah, però mi... Se cambio Pokémon il turno va avanti, vero? Sì, come sempre. O no? Non ho capito, perdonami. No, no, non è detto. Dipende dalla velocità dell'entrante. Ah, ok. È uno dei difetti di cui ti parlavo, che non ti fa capire qual è la prediction dell'entrata. Sai che? Sai che? Potresti provarla. Eh, no. Ha preso bollina? No, voglio fare una cosa. Posso avere... Possono avere... Cioè, se lo ipnotizzo... Entra? Toglie... Cioè, toglie... Sostituisce, sì. Ok, sostituisce. In questo gioco sì. E lo facciamo. Perché ti ho detto quella teoria, e secondo me... Vai, vai. Ci sta parecchio come teoria. Hypnosis. Aha! Yes! È entrata subito. Anche lei. E' worth it. Eh, sì, sì, infatti, infatti, sono d'accordo. Ok. Diciamo che abbiamo un ottimo sostituto. Manda Kodak, vai. Provala. La provo. Addirittura megatonica. Yes! Vediamo. Sì, visto che... Lo fa, lo fa. Se dormono... E sono rossi... Secondo me... Vabbè, ci sta anche perché sacrifichi mezza squadra per farlo, quindi... Direi che... Nice. Bene, bene. Ok, ora ho due morti. Vediamo. E allora finisco anch'io la mia lotta. Good. Ok. Ok. Perfetto. Ah, ragazzi, dove... Chi ha preso la nuova mossa mi sono distratto per... Come un pollo. Ah, ok, così non vedete gli HP. Ah, ok. Allora, forse durante... Poi fa... Golda che rival. Ok. Ok. Facciamo un test, allora. Finiamo un po', mettiamovi se qua. Ad esempio gli sconfitti... Sì, facciamo così. Fatemi gli sconfitti. Mi vede? Merda, si vede. Bisogna sperimentare stasera. Sì, sì, anche io sono impegnato in una così. Non preoccuparti. Basta, basta, basta. Cagarmi il cazzo, basta. Eh sì, poi con il dialoghi l'ha sposto, ragazzi. Ma va bene. Cioè, a questo punto creerò un setup per esplorazione e cittadino. Ci sta. Ok. Allora. Ok. Eccolo l'altra. Molto bene. Ok. Nebbia. Arena della ribalta. Arena? Arena. Che cacchio... Uh, e dove combattere Mursaluna. Potrebbe essere. Uh. Guarda, c'è l'offerta. Quindi i Pokémon regali erano veramente venerati. È vero. E tra l'altro sembrerebbe anche in quel passato che non appartiene propriamente a questa gente. Eh sì. Hai ragione, potrebbe proprio essere l'Arena di Ursaluna. Guarda che è. Oh. Musica molto muti, eh. Eh sì. Ok, ok. We'll be back. Sì, sì, sì. Uh, distorsione. Fico. Dov'è? Eh, non lo so. Adesso ti dico. Adesso ne so. Ah sì, sì. Appena hai fatto con i combi pazzi. È affanculo. Buono. È il momento di sprintare. Ho sbagliato. È in un posto che abbiamo già visitato? Eh, è tornato. Eh, no, è dove volevo andare dopo il lago. Ah, ok. Mi scoppio questo. Chiedo un secondo una cosa alla mia chat. Ditemi, farò un setup in due posti, ma durante le esplorazioni mi preferite dove ero prima lì a destra o qui un po' più centrale non è soffocante? Fatemi sapere. Che cambio in un secondo. Allora. Qui. Ok, perfetto. Nice. Ok, ok, ottimo. Sto per cadere male. Eh, io non ho nessuna intenzione di perd... di perdermi la... la distorsione, quindi... Se mi permette, professore, io farò lo sprintino segreto adesso. Ma certamente, ma certamente. Anche noi qua ci guardiamo l'arena allora intanto. Un altro aroseli. Devo... computare. Serio. Oh no, mi hanno visto tutti, sono incazzati come fa'ire. Eh, cinque... Psico... Vabbè, devo uscire il resto. E poi basta. Fatta. Fatta. Come... Figliatti che sono. Di Roselia. Sì. Bastardo. Schifosi. Luridi. Vuoi prendere la subquest che c'è qui vicino prima di andare? Mentre si sta creando? No, forse è meglio che vai. Eh, tanto poi ci sprinto in un secondo lì. Torno indietro. Tanto ora non voglio esplorare la palude, voglio... Dov'è che ce l'hai? Fammi vedere, aspetta. Eh, qui. Guarda. Ok, ok, ti seguo. Tanto almeno guardiamo anche nuove location. Esatto. Quanto è bello che fa finta di essere un albero. Sì. Sono d'accordo. Ah, io sto viaggiando, sì sì sì. Oh! Terribile quanto scappano sti cosi. Affidissima sta cosa. No, no, ci devo riuscire. Vabbè, dopo. Sta per attivarsi, quindi via. Ok, schippo tutto. Così non mi spoilerò niente. Weird dear. Forza. Ok, bravo. Guardala che bella, bella. No, da lontana è figa. Cosa? La distorsione. O palude? Sì. Ah, no, no, no. Solo palude. A capirla. Molto ferro buttato questo. Ok. Uh, leaky tongue. Eh, eh, ti ho già completato. Perdendo. Non devo fare cazzate. Ehm. Che succede? Sto pensando a come raggiungerlo, che ci sono differenze verticali importanti. Ok. Ma non vuoi morire, giustamente, perdere altre pepite. Esatto. Ok. Golbet. Una NPC. Un fuoco fatuo. E poi... Il potere di Weird dear. Nooo! Non succede niente. E luota. Finché non c'è, finché non c'è un Parasact vicino, non ho problemi. È vero. Sto bene. Ferro. Lo prendo dopo. Ok, dai. Dai. Sali. 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 Ok. Per favore. Per favore. Non fare... Ok. Ok, sono pronto a fare il furto e lo scoperto. Di tutto quello che si trova dentro. Quattorgi. Oh, oh. Io! Io! Stai trovando un sacco di cose nuove! Sì! Che bello! Anche qua stiamo andando a caccia. Non ho resistito, poi lo controllerò. Oh, Teddiursa. L'avevo già completato il Teddiursa, vero? Sì, l'avevo già completato. Yes. Non mi ricordavo. Perché c'era... I cespuglietti con dentro... Ursa righe. Buono, buono. Ok, ci stiamo, ci stiamo. Finalmente ci stiamo. Fantastico, fantastico. Ah, guarda Yanma quanto stiamo... Ah, senza farti notare. Sapevo che era una cazzata. Uh, di se... Qui si fa la combo incredibile. Devo togliermi delle bacche da... Arrivo perché altrimenti... Ah, se ne volevo un po' qui, eh. No, non si farà. Dagli, eh. Dagli le secche. Armamento. Prima ti vedono, poi si distraggono mangiando. Con il mio gatto. Oh, non scappare, eh. Ok. Ok, sto per... Vivere il momento. Oh, sì sì. Sono molto curioso. Ora arrivo da te, allora. Se ne è un po' fregato del cibo. Ah, ah. Come sempre i ragazzi mi sentiranno un po' in ritardo di qua. Certo, certo, certo. Ma per sentire il tuo audio. Fantastico. Tra l'altro se guardi in alto puoi guardare come si crea. Perché c'è già un po'. Vedi. Eh no, ma quella l'ho sempre vista alla cima che praticamente suggerisce quello che c'è davvero. Eh poi cambia. Montecorone. Voglio vederlo. Questo qui è proprio un principio di ultravarco. Ma ancora non si è slabbrato. Tra l'altro il suono qua ti da white noise. C'è da dire che quindi questa regione sembra interamente affetta da distorsioni di spazio. Quanto ti manca la creazione? Pochissimo. Pochissimo. Proprio poco. Penso un ventesimo, quindicesimo. Ok, ok. Sta per succede. Eccoci. Eh infatti vedo che ci sono più. Che silenzio. Ti dà tutto il tempo di arrivare comunque. Anche quando manca poco. Comunque c'è il clock. Il circo della completa è lento. Ma non voglio controllare. Manca poco. Senti la musica? Sì. Sta per succedere. Ah che figo. Ok, ok. Ok, il momento. Weird here. Ruba tutto. Ruba tutto. Cos'è? Un Porygon. Un Porygon. Prima rubo tutto. Poi. Bravo. Pezzettini di lastre preziosi. Un Porygon. Un Porygon. Un Porygon ce l'ho. Però prendere l'altro è utile. Ok. Ah non c'è spazio per il borse. No. Tocco le bacche giuro. Allora fermi. Allora via. Allora. Mi dispiace che bacca ma. Legno? No è raro il legno. Vediamo un po'. Caramella, esperienza piccola. Te Porygon. Mangia questo. Poi. Te via. Ok. Due slot. Esatto. Mia connessione. Coccio blu. Ah era una pepita. Coccio verde. Uh. Vabbè senti Porygon. Tu come sei messo con Pogadex? A posto. A posto. A posto. Coccio. Erano tanti eh. Erano tanti. Eh sì. Sono pezzi di lastre. Il materiale è tanto. Esatto. Ok. Vediamo che spavano. Vediamo un po' cosa fare. Ah. Buizel. Ok. Look straight. E' tutta roba che hai qui. Questa sì. E tra l'altro. Forse buizel. No. Dovrei avere anche il Pogadex. Carissimo. Bel roll. Grazie. Ruba tutto. Ruba tutto. Oh. Un po' con due. Ma pensate. Praticamente catturandolo potresti fare lo zeta tenendoti il 2. Esatto. 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 E' un casino questa cosa eh. E' proprio un casino brutto. Vediamo un po'. Auguri. Esatto. 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 Allora. E' un po'. E' un po'. E' un po'. E' un po'. No no. Saltano i turni per pietà praticamente. Oh no. Ah però. Sorprendente. Dai. Aia. Come ti avevo spiegato calmamente qui è rotto. Già. Ci picchia adesso. Ok. Buono. Buono. Eh. Ti ricordi l'effetto secondario del sonno? Eh. No. Mi ricordo quello della combustione. Ma non del... Aumenta i danni. Gli fai più danno. Del prossimo pokemon. Ok. Si. Del prossimo pokemon. Allora. Mi sa che butto il nostro amico. Buono. Ricordati che con la lente di ingrandimento guardare il typing degli avversari. Si. E anche quanto dura. E anche quanto dura. Bravissimo. Uh. Che bella. Dai buono. Ottimo. Accidenti. Vedi che anche da boostato gli hai fatto quei danni? Si. Buono buono. Tanto fulmine anche per i Pokédex. Che poi io da molto piccolo sono stato a un Pokémon Center di Tokyo e avevo proprio preso la statuina di Porygon 2. Ah. Ah. Ok. Dai. Questo Porygon 2 ha fatto bene. Molto, molto. Ok. 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 In teoria. Falso finale non ce l'abbiamo. Possiamo semplicemente andare di azione per un paio di volte e basta. Tanto non credo che a livello di 27 non è un po' difficile da catturare. No. Infatti è vero. Va bene. Sfortunato oggi l'allievo. Molto. Dai. Dai ho avuto. Ok dai. Un'azione via. No. Ti prego. Ricordati che puoi usare la tecnica rapida in maniera impropria. Che ha meno attacco. Bravo. È vero. È vero. È vero. Tipo qui Fran ha fatto quel danno quindi Fran a rapida fa meno. È vero che fa 60. È vero smart. È vero. È vero. Fii proviamo vediamo la differenza. Forse. Tanto già così mi sa che lo catturerei però il male non fa provare. Io ho spesso utilizzato nella mia blind la rapida per fare i cipettini. È giusto. È fico. Eccolo la vedi? Sì. Non male la differenza tra 60 e 75. Ok. Catturiamo. Catturiamo con una mega ball. Bene così. Eccolo qua. Let's go. Dai. Living Dex su Isui. Ok. Ammazza. Quanti punti esperienze da catturare. Nuova mossa. Chi arriva? Però è bello poterli prendere senza avere paura. Eh sì. Eh sì. Di rompere il gioco. È vero. Ah non ho poco. È quello da dove è arrivato? È che qua è un casino perché lui in realtà è sorprendentemente senza mosse volante. Eevee è da prendere te lo dico eh. Ne ho abbastanza però lo prenderò. Quanti Eevee hai? Credo 5. Ah ok ok allora niente. Sì 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 allora. Facciamo una cosa smart. Vai Eevee. Potrebbe andare. È quello che spero. Ho posto. È andata. È il momento di scappare a gambe levate. Che bello però Eracross. Eracross in realtà. Non credo di avere il proprio Bex. Vai Eracross. Fluzzle sta assertando dominanza volando. Oh cazzo. Ok niente Eracross alla prossima. Eracross non ce l'hai? No ce l'ho, ce l'ho Alpha. Ah ok. Però magari la prossima volta. Mamma mia. Che fortuna eh. Via. Dai vediamo se esce fuori un po' con una sorpresa. Dai c'è ancora un po' di tempo. Porygon. Ok. Buono. Spawnate. Spawnate. Float Zell. Esatto ragazzi. E' Floating Zell. Esatto. Percepisco le RNG contro. Sento ancora Porygon. Io rubo tutto. Drift, Lumeraco. Sono sempre loro. Vedo che di solito ti scompaiono davanti al viso senza pietà. Facciamo un po' cammino. Non gli faccio. Sono qui. Distorso. Dove era là? Sempre a Porygon. Drift, Lumeraco. Brutto, brutto. Anche un'Umbra non lo prenderei volentieri eh. Oh. Che cosa è stato? Che cosa era? Era un attacco. Ma era un attacco di riflu. Un attacco di riflu. Fuori. Lo siamo messi. Male. Vabbè no, non è vero. Un quinto. Sta finendo? Un quinto. In realtà non è pochissimo. Visto quanto siamo stati a guardare la spaccatura. Un altro vabbè basta. No, se ce ne hai sei figurati. Un altro vabbè basta. No, se ce ne hai sei figurati. Ricordati che poi piano piano li dovrai evolvere tutti. Sì, sì 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 sì. Ho già qualche pietra elementale. E ho Umbreon e mi porterò dietro un Ivi per farlo evolvere di giorno. Eh, mi sa che in questa zona hai preso tutto sai. Vero? A parte un Umbreon che potrebbe aiutarmi per il Pogamex. Dai, ultima spawnatina di oggetti rari. Un altro cavo. No. Ok, va bene. Bella. È il momento di tornare alla quest di forte ottimizzazione. Super fast. Anzi, passo per il... Mobili. Passo per Yanma. Come si chiama? Yanma, sì. Yanma, sì. Ok. La Libellula. Ok, perfetto. E diventa lei Flygon? O mi sbaglio? No, ti sbagli. Ok. Lei diventa Yanmega. Ah, un tiro! Flygon e Trapinch. Trapinch, Vibrava, Flygon. Vibrava ci assomiglia però. Dimmi, dimmi. Poi dimmi quando stai tornando al nord. Eh, molto presto. Molto presto. Vado a riposare. Poi... Ok, Mike. Brava. Prima. Perché a nord c'è un po' di roba simpatica. Manca uno da capturare. E poi gli altri verranno massacrati. No. Eh, eh. Eh, perché vola. Oh, no! Mi ha... Mi ha visto. Ok, con qua devo ucciderlo. I mostri di tipo roccia. Mi sono morti tutti, poi, come potremmo fare la mostra di tipo roccia. Ok, ok, ci sono, ci sono Eh sì Anche io sto facendo le mie Cosine pazze Ah, non ha lui Frana Sono un pirla Eh, va bene Frana ce l'ha sottovuto? Sì, sì, esatto, esatto, sono stato un cazzo Non dire così, non essere così duro con te stesso Eccoci Io torno a casa base Poi vai a dare un po' di quest Ok, ok Tutte quante appese Gamma Non tradirmi così A me Adesso mi scopio Bella, quest Ah sì, è vero, è vero, hai ragione Sì, sì, sì No, no, ma intendo non le quest, perdonami Le incarichi Pokédex, intendevo Ok Almeno vedi di cosa hai sbloccato la descrizione, eccetera, eccetera Ai ai ai, doppio Yanma Sì, ma Secondo me Ecco Il lava will be back soon, ragazzi Sicuro Vabbè, hai ragione, professore E vabbè, mi racconta Andiamo a dormire Sono in ostilità, va bene Eh, si, devi toglierti prima l'aggro Sì Così poi Aia, hai ripresa Un Paras Eh, ma i Paras non so perché ti aggrano da canicatti, porca di quella puttana Una cosa fuori di testa Ancora Paras Vabbè E tu corri, tu viaggio Prima o poi Esatto Sarai senza Facendo tutto Te aggrano tutta la mappa Ok It is done Oh Allora Passo 1 Depositare tutto Eh, è importante È importante qui il management Passo A proposito Guarda sta qua Bravo Poi Poi mi crafterò qualche pozione poi Per ora Le bacche basta e avanzano Ok Basta Ok E Professore Qua Di falso Esatto Eh, hai qualcosa di appiccicato addosso Oh 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 mio Dio Ma cos'era? Un Pokémon forse? No Ah Ora che ci penso, Ethel, mi aveva riferito Di alcune incisioni simili a lettere sulle pareti Delle rovine flemma Ah E' possibile che si tratti di una specie di Pokémon con molteplici forme? Però, non male Ho avuto una grande idea, Mira Catturali tu Aggiungi dal tuo Pokédex una pagina speciale in merito a questo curioso Pokémon Ah, che figata Ci sono anche gli unknown Sono degli indovinelli ambientali Ok Devo Eh Avvisarti una cosa Ok Eh, un po' come quando tu mi hai proibito i duelli PvP Ti proibisco di leggere gli indizi e gli indovinelli Perché potrebbero spoilerarti i luoghi che non hai ancora visto Ok? Ok Sarà qualcosa che faremo visitata l'ultima mappa Ti farò fare tutto il backtracking che vorrai per prendere gli unknown Se ne avrai bisogno perché magari li troverai Ok, 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 figo, figo, figo Simboli simbili al lettere Inoltre mi è perso di sentire il tuo Arceus phone poco fa Cosa farà mai dire tutto questo? Previ il potente Y mentre visualizzi la copertina del Pokédex per aprire la pagina degli appunti Ah, ok, 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 ok Quindi per ora Respingono le partner ball grazie a un potere misterioso impedendoti di lottare con loro Puoi solo catturarli praticamente Fingo, fingo Guarda, ti faccio vedere solo il primo, d'accordo? Ok, ok, ok Ecco, intanto faccio rapporto anch'io Così Perfetto Faccio 10k, buono Non sono ricco quanto l'allera Abbiamo Dave Blim Fluttuo a silenzio nell'oscurità del Vespro La sua forgia, efimera e malinconica tocca al cuore Ispirando sovente Poeti, scrittori Ha il sembiante di un bagliaccio alle muovenze di un pantomimo Materializza moni invisibili con l'uso di energia emessa alle polpastrelle Ce ne siamo apporti Ecco là Di bel sembiante possiede spine velenifere E' usanza della mia terra inviare queste spine all'avversario A domandare una singolar Un singolar Una singolar Questa è carinissima sta cosa La gente duellava mandandosi le spine delle Dei Roselia Si Si è evoluto per mezzo di un singolare strumento Gestualità ed espressività si sono fatte più ricche Seppur rimangano ignoti i dati biologici su su conto Eh beh, chiaramente l'Aven non può spiegarsi perché esista questa cosa, no? Vai pure, vai pure Ok, andiamo avanti Perfetto Ok Allora Allora ti dicevo apri il Pokédex Si Premi Y No, senza qui, proprio all'entrata del Pokédex Ah, perdonami Esatto, premi Y Oh Ok, legge il primo Solo il primo Campo del tempo Ti dico che puoi già risolverlo questo Campo del tempo Ma non ti dirò come Ovviamente Certo, certo, certo E Ah, quindi ci sono dei consigli Che cosa carina Che cosa graziosa Campo del tempo Potrebbe definirsi al Team Diamante O Poi non è detto che sia qui, infatti Non è detto che sia all'interno Della seconda mappa Cioè, saranno in tutto il gioco Ok, ok, ok Campo Del tempo Allora Vautiamo le opzioni Per ora Per ora non abbiamo Avuto a che fare Con Elementi di Algosi Vero Vero, vero no Cavolo Sembra Sembra Una cosa Semplicissima Con calma Ma con calma Con calma Non c'è problema Però Sì, la stanza dello spirito del tempo Con calma Con calma Torniamo dove eravamo Stavamo andando a nord Verso il lago Giusto? Sì 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 Io avevo pensato persino Alla Zona di Fattoria della città Ma quello È controllata dal team Galassian Dal team Diamante Eh sì Possono essere loro Ah, devo riposare Cazzo, l'avete ragione ragazzi Ah sì, sì Riposa pure Io mi avvio Tanto abbiamo capito che Viviamo su Pianeti diversi In che senso? Il ciclo giorno-notte Non ci Non si capisce perché Ma non te lo so Spiegare perché fa così Allora Un po' Ah, aspettavo Ho finito Uno dei Pokémon Vediamo un po' No, no Non ancora Devo ancora Lavorare di Pokédex A proposito Eh, va bene Con calma Allora Tu devi lavorarci Magi brilli Non lo sanno di più Gerito smorso Continua bene Bravo Su dovuto Sette Deve Usare Mimica Penso che l'abbia imparata Vediamo un po' Mentre Gold Ok C'è molto da fare Molto da fare Vediamo un po' se Ah, avete ragione Avete ragione Qui hanno fatto una speculazione Salton e hanno detto una cosa smart Probabilmente perché quando si apre il menu il tempo non scorre E ognuno di noi fa arbitrariamente È vero Ha senso Ha perfettamente senso È vero È vero Allora Mentre su dovuto Mimica Simpatico su dovuto Sì Un finto ditto Allora Perfetto Let's go Andiamo a vedere finalmente Beh dai Sicuro Sicuro Che poi tra l'altro è anche un indovinello simpatico Perché si dice Campo del team diamante Loro sono il tempo Allora Eh certo Dai 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 Ci vado a esplorare Vado a esplorare Va bene E io ti aspetto Wallor Tanto è comunque dove stavo andando Perché c'era quest vicino lì Allora Qui Vai try Ok Andiamo un po' Ok 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 Il mazza è in effetti anche Un luogo particolare Perché bisogna fare I saldini È vero È vero Non si dovrebbe poter raggiungere adesso Se non con le skyrimmate pazze A meno che In realtà Vabbè sì Comunque lo si trova Ok wow Oh mio dio E devo trovare un annuno Sempre Se è qui Credo di sì Ma wow Oh mamma mia Questo è un ambiente Bello vasto Bello vasto Ok Quanto è ampio Campo diamante Ah sì Vedi c'è anche la radura Addirittura Eh infatti Però è nel campo Quindi È un'area di influenza Importante Ok Ok questo è il campo Fori con scusa Non credo siano qui dentro I gannoni Però vabbè Oh carinissimo Bonsly 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 Mi ha fatto smattare Uh Rhyhorn Tu esplora bene Eh sì perché adesso Troverai qualcosina Devo smettere di usare Weird here Devo stare super attento La radura diamante È oltre Quindi il campo È tutto questo luogo Ok Però Comincia da qui Questa Parte Porca miseria Gli hanno un son piccolo Porca C'è Che figata Che siano Nel chimio ambientale Mi piace un po' Sì e sono anche fatti Molto bene Mi sono piaciuti tutti Dal primo all'ultimo Allora vediamo un po' Che paura Mi sono riflesso Mi sembrava un unknown Oh potrebbe anche essere Ok No il campo di amante Non è qui È oltre Comincia qui Comincia Ma è qua Comincia qua Ecco Forse è anche un po' Più indietro Eh ma Giudicare dalla map Campo di amante Potrebbe Cioè in realtà Eh sì Potrebbe anche essere In mezzo agli NPC Potrebbe essere Cioè potrebbe essere C'è anche una quest È vero Eh sì Potrebbe essere Immerso Esatto Tutta quest'area Poi si chiama campo Ah ma certo Perché è un campo di riposo Sì campo Quindi cominci Pansi È molto più probabile Che sia Poi campo di amante Perché questa è gente Del team di amante Quindi è ovvio Che sia questo È vero C'è proprio un accampamento Ok Porca miseria È il momento di Oh porca vacca Beh Ok tocca Sentire che vogliono No no Tocca cercare In mezzo al campo In maniera morbosa È una buona cosa Eccolo Bravissimo No stupendo Sono Sono nascosti Fisicamente Sì 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 Li vedi fisicamente Oh santo cielo Alcuni sono belli Bastardi Perché Visto che la mia Prima ipotesi istintiva Era Il campo Di Agricoltura Non ho più tradotto Campo con camp Da inglese Sì 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 E quindi Cercavo Campi Dei campi Non un accampamento Certo Pirla Let's go Uh così posso fare Porca vacca Poco più basso Quando mi ripon la piuma Ho ucciso qualcuno No ma Io li voglio Li voglio E li prenderemo tutti Li prenderemo tutti Te lo giuro Ok ok Bene Ti seguo Uh guarda Che memoria Che ricordi Tu fai parte del team Galassia Giusto Non è che per caso Conosci un medicinale Che possa curare Il mal di testa Di Yip Psyduck Gli Psyduck Con cui vivo Sono costantemente Tormentati Da forti Inicrania Vorrei fare qualcosa Per aiutarli Ma i normali medicinali Sembrano non sortire effetto Nel team Galassia C'è ogni genere di persona No Ci sarà più qualcuno Che mastica Un po' di medicina Aiutami a trovare un rimedio Ti prego Nel presente lo fa Camilla Esatto Esatto Per quello parlavo di ricordi No infatti Hai fatto bene ricordartene Cioè Una bella sorpresa Per chi si ricorda Di quel momento Di diamante e perla Quindi bene che te lo ricordi Chiederemo a Ethelo Però non è il team Galassia No Allora Chiappa tempo No vabbè Oh mio dio Bellissimi questi dialoghi Allora Dicembro Ursa Luna ha ritrovato per me Una cosa che avevo perso Vorrei parlare con quelli Del team Perla Albio Riris Era nella squadra di ricerca Del team Galassia Chissà che fine ha fatto Riris era una delle Tipe che ti si è parata davanti Delle brigantesse Ok Ok Damon è il fratello minore di Risa Non hanno gli stessi genitori Ma che c'entra? Comunque io sono la loro Sorella più piccola Calenda Sì Sposto Questa cosa Diventerà un altro setup Tutto automatizzato Ma per ora Così Così Pannaggia i dialoghi giganti Perfetto Ok Allora Benvenuta Sei qui per vedere Damon Accidenti Quanti strumenti si porta presso Carino A noi manca la forza Per resistere agli attacchi dei pokemon Dobbiamo invocare la protezione di Lilligant E chi è? Appunto Mi suona familiare Quasi come se fosse un pokemon che conosco Però non lo ricordo Quindi non sarà Campo diamante È diventato anche un teleport Se Tu invece Noi del team Diamante sappiamo creare medicine con i porti officinali e altri ingredienti Quelli del team Galassi invece sanno creare davvero di tutto Come sono cambiati i tempi Ok perfetto Non si può entrare immagino Oh dice sì Fantastico Oh Seira Evio Ma questo è un bell'interno Questo è un bellissimo interno Per gli stanzi visti fino ad ora Ti metto già il Pipo Min Sono tutti uguali Ma Esploralo bene Ok grazie Va bene Mi hai contestualizzato Allora 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 Prima parliamo Prima parliamo Maru ha sempre detto che il team Galassi rappresenta il futuro Quella ragazza ha fiuto per queste cose Noi il team Perla non facciamo altro che batti beccare su quale sia il vero Somosinno Eppure crediamo tutti in lui Non ha senso Lui è avvantissimo Pure loro che con 10 pixel si mettono a fare queste cose Beh quanta volontà Però mai ti guarda Ne sospetto Poi abbiamo la roba figa Bravo Ah tra l'altro Quasi antispirito O meglio no Più che altro Comunque si tratta di qualcosa di spiritico Allora lui è uguale a Sorwan praticamente Chissà chi sono Guarda Ti do Una Un trivia Che non c'entra niente con il contestualizzarti chi sono Ok Però ti dico solo che Il personaggio a sinistra Entrambi sono personaggi già esistenti nel mondo Pokémon Ok Ovviamente questo non ti dà Nessun Indizio su chi sono Qui Però uno è un personaggio che scopriremo insieme Ed è quello a sinistra Non ti dico altro di lui Ci giocheremo a un certo punto al suo gioco E vedrai Oh wow Quello a destra invece È importante che io ti dica chi è Tu Quali giochi Pokémon hai giocato? Io ho giocato Blu Rosso Argento Oro Smeraldo Non tantissimo Cioè l'ho finito bene ma non ricordo nulla E poi XY Allora proviamoci E sole, luna eccetera eccetera Proviamoci Inquadra bene il quadro a destra E pensa a Pokémon Smeralda No No Non posso Mi dispiace Di Pokémon Smeralda Ricordo soltanto Non ti ricordi niente Che c'è la cartuccia azzurra con Kyogre Purtroppo Purtroppo l'ho giocato appena uscito Durante i miei lavori pendolari Non preoccuparti Proprio Guarda Non preoccuparti Ci sono io apposta Fantastico Ad Owen ci sono due team Il team Magma e il team Hydro Che lottano per la Mi ricordo il nome Sì Per la supremazia della terra o del mare Uno dei piani più stupidi dell'universo Ma lasciamo perdere Lui È Probabilmente l'antenato di Max Il capo del team Magma È proprio identico Che figata Stessa cartinatura E qui però ovviamente Non c'entra nulla con lui Certo Ha una casacca Molto grande Vedi è diversa dalle loro È un po' più Sì sì Si parla di grado Ovviamente Del team Diamante Esatto Esatto Poi ovviamente Tra l'altro Abbiamo anche La cosa simpatica Che Il loro simbolo È Diciamo Realizzato come logo Con lo stesso Diamante Di Dialga Bravo è vero È proprio lui Cosa possano significare Questi quadri Invece lo lascio interpretare a te Allora Io temo Che siano morti Perché Qui tra l'altro Abbiamo proprio Un'offerta E credo che siano Probabilmente Questo potrebbe essere Il fondatore Del team Diamante E questo Non lo so Sembra strano Perché lui Ha un quadro Così diverso Che l'unica cosa Mi fa pensare È che Sia Però non è Non è diverso In realtà Stavo quasi pensando Che Sarebbe stato interessante Vedere per esempio Una foto E un disegno Avrebbe rappresentato Che questo a sinistra Era più antico Non c'era ancora La possibilità di Però entrambi Sono disegni Non sono fotografie È vero Quindi Potrebbero essere Comunque Gli originari Creatori Del team Diamante Quindi due fondatori Del team Diamante Che ci potrebbe stare Distinto Non posso andare oltre Però Mi piace Chiedermi Perché siano così Diversi i quadri Cioè Hai ragione Sono proprio Tanto Tanto diversi Questo Potrebbe essere Design Pokémon Però è molto Molto più Diciamo Spirituale Creativo Con tra l'altro Una cornice Particolare Intorno al personaggio Mentre questo La cornice Ha un background È un disegno Un'eleganza Chissà Diciamo che La grande differenza Che puoi notare È che uno È Molto Portando qui Non è perché poi Passeremo mezz'ora Qua a parlarne Poi non è un cazzo Ok No 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 Ma scherzi Ma anche fosse È comunque divertente Poi bisogna Poi magari si giudica Postumamente A cosa è servito Ma allora Io Considera che Come ben sai Conosco poco Pokémon Però A livello da Analizzatore Fuori Dalla conoscenza Pokémon Quello che è noto È che Questo quadro Apparecemente Di qualcuno Di molto tempo fa È comunque Molto distante Da ciò che si vede Oggi a Isui Perché lui ha Sei Pokéball Mentre Lui ne ha due Credo siano Pokéball Potrebbero essere Solo decorazione Anche secondo me Sono Pokéball E questa è un'ottima Osservazione Sono d'accordo Ok perché Sembrano essere state Riscoperte le Pokéball Da poco O comunque in generale Sono recenti Però dipende da cosa Si intende per recente Anche Però hai ragione Veniamo in un mondo Dove Nessuno ha catturato I Pokémon Chi lo fa ancora oggi È leggenda È mito Sì Questo tizio ne ha sei Questo tizio ne ha sei Esatto Cioè il team Galassian Ne ha catturati tre Da quando esiste E il team Perla Ha maggior ragione Batti becca Da tanto tempo Perché fin dall'antichità Questi Li catturavano I Pokémon E Loro no Se io trovassi Un accampamento Perla E se uno degli unknown Si trovasse Nel campo dello spazio Qui dentro Non mi Non mi Peraltro Voglio Voglio farti notare Una cosa E voglio farla notare A tutti Se tu Zoomi Su di loro Non è un dettaglio Delle casacche Anche la roba Che ha in basso L'antenato di Max Non proprio sui quadri Sui tizi del team Diamante Che sono qui in stanza Cioè non è che hanno Quelle robe rosse Non è che magari Sono decorazioni Della felta No no Esatto Quindi secondo me Ci hai dato Quelle sono Non solo Pokéball Sono Pokéball Preistoriche Che rispondono A una domanda Che noi c'eravamo fatti Ai tempi dei trailer Ma le Pokéball Sono nella loro Prima versione Sì forse Nel concetto Nel concetto di Pokéball Cioè si chiamano Pokéball Adesso e hanno Una tecnologia Che le fa Ritrarre come le primissime Pokéball Della storia di Pokémon Ma prima delle Pokéball Esisteva qualcos'altro Secondo me Capace di catturare i Pokémon No? Durante la Veteran Run Ogni tanto Faccivi delle domande Mi facevi delle domande Anche speculative Di qualcosa Che non sapevi Se avrebbe avuto risposta O meno Qui chiaramente Non ce l'ha Però Te la faccio proprio Per sapere la tua Rispetto a quello Che sto ragionando io Secondo te Anche se forse Le rovine singe Un po' Mi rispondono Il popolo antico Aveva a sua volta Pokéball Probabilmente no Secondo me no Però potrebbero Per quello che ne sappiamo A questo punto Sono d'accordo con te Ok Ok La domanda era questa? Sì Sì Allora La domanda Se la domanda è questa Io ti rispondo Semplicemente Con l'evidenza dei fatti Mi hai detto che sono quadri vecchi Sono d'accordo Non sembrano Non così vecchi No certo Però non sembrano Dell'altro ieri Hai ragione Sembra Sembrano morti Quindi non sembrano In vita questi personaggi Questo qui sembra proprio Non c'era ancora la fotografia Mettiamola così No Sembra un fiore Un'offerta Hai ragione Quindi sembrano Ricordare Questi due personaggi Nelle loro tende Gli uomini del team diamante Quindi credo che siano anche Piuttosto importanti per loro Queste due figure E sì Poi l'ha ritrovato Poi l'ha ritrovato Di nuovo adesso Esatto Siamo moderna E però ora Sì dimmi Ti sto per dire una cosa pazza Pazza eh È proprio pazza Pazza mi è venuta in mente Ascoltandoti Ti ascolto E se fosse come noi Lui Cosa intendi dire? E se fosse venuto da un futuro Per il suo passato E fosse diventato così importante E noi a nostra volta Divenissimo così importanti Cioè se lui fosse Un viaggiatore temporale Come noi Di nuovo Questo non lo so Eh no certo Non possiamo escluderlo Non possiamo escluderlo Perché Archeus avrebbe potuto fare Cioè Non è detto che fosse La prima volta Che facesse questa cosa Cioè lui non credo Onestamente Ma lui Non lo so Sei Guarda che Cioè Sai cos'è? Il fatto è questo Mi viene da pensare Poi vabbè Questo è proprio over over Però Noi nel presente Abbiamo sei pokemon Come il limite Ma non è una regola reale No è vero Magari l'ha portata lui Chissà Chissà Però su pokemon Non si potevano mai fare ste cose No Cioè Non sarà l'unica Ce ne saranno tante E io sono Molto ignorante Quindi cioè Non posso riconoscerli E così via Quindi è fantastico Ah sì sì Io ho avuto una sincope Quando sono entrato qui Ho visto Soprattutto lui a sinistra Perché tu non sai Che personaggio è E non te lo voglio dire Però Il personaggio collegato A quello a sinistra Nel mondo moderno di pokemon È un personaggio molto speciale Quindi Però è bene che tu non lo sappia Adesso Non ti aggiungerebbe nulla Te lo assicuro No 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 Certo certo Ma non vedo l'ora Perché Per te questo personaggio Sarà un bellissimo prequel E poi quando lo ritroverai Farai Oh Oh che bello Ok 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 Figo Vado Usciamo Assolutamente Bello poter passare Tutti questi minuti Dentro una capanna Sì Purtroppo te l'ho detto Ti tolgo subito la delusione Le altre sono uguali Sì 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 Il pipo min Il pipo min Te lo devo dare però Allora Futura Lo scorrere del tempo Ci insegna Quanto è importante Crescere Imparare dai nostri errori Ma come altro lato Della medaglia È il tempo Che ci invecchia Fino a portarci All'altro mondo Bravo Sì è vero Oibo Eta Eta Si è aperto uno squarcio Nel cielo Speriamo che non sia presagio Di disgrazia Guarda bene non porta È solo grazie Al sommo sinno Se il tempo scorre Come si deve Guarda lui proprio Sta guardando il quadro In riverenza totale Di nuovo qui Nessuno sa di Archeus È vero Ma prima sì Ma prima sì C'erano le scodelle Con la giada Esatto Il popolo che Appunto ha avuto Le città distrutte Qualcosa sapeva Aveva il simbolo Dell'anello Sulle ciotole Dei pokemon regali O di quel che erano Insomma Di qualunque essere Fosse il destinatario Originario Di quegli altari Uh calendar man Come? Le pokemon Mi viene l'altra lemarella Il solo pensiero Di catturare un pokemon Ecco Guarda il quadro Esatto Fatti ispirare Ottavia Trovo normalissimo Che i giovani abbiano Un vivo interesse Per i misteri della vita È indubbiamente Un argomento vario E stimolante Sì è brutto Vederli litigare Perché sarebbero perfetti Insieme Il team perla E il team diamante Sì Anche perché Loro cercano Comunque il team diamante Non vuole controllare I pokemon Ma conviverci Con le pokeball Allora Tra l'altro Comunque Senti Siamo qui Perché fermarsi Senza stare a dire Motivi Perché è eccessivo Comunque Queste Sono arrivate Da qualche parte Ci sono Queste cose Stalagmiti Stalagmiti gigantesche Ah sì È vero Sono strane Cioè Non è un ambiente Della Turchia In cui puoi vedere Magari Creazioni naturali Come questa È vero Comunque Pensa a quanto Speculo pazzo Stiamo facendo Qua dentro È fantastico È fantastico È assolutamente Non sciocco No 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 Finalmente possiamo Vivere in tranquillità Sono davvero grato Ai pokemon regali Per averci aiutati Oh Carino Cioè praticamente I pokemon regali Sono un po' Quelli che hanno Creato quindi La Diciamo Struttura Di comunicazione Ponte Che leggevamo A Canalipoli È vero Un po' Paceri Sì Dai Ben che comunque Ci sia questo Rapporto Come dicevamo Prima di Sottomissione Dell'uomo Al pokemon Non sono pari Qui Ok Mi sa che abbiamo Finito Anche secondo me Forse c'è lui Però Ah no Anonio Ah no Vuole un pokemon Per paura Di pokemon Vabbè Grande Fichissimo Ok Sono contento L'ho trovato Annone E abbiamo trovato Anche La quest La quest Quindi perfetto Abbiamo fatto Un ottimo Exploro L'abbiamo presa Alla fine La quest Della storia Non ricordo più La quest Ah sì sì Per la storia Noi dobbiamo andare All'alto piano Melmoso Adesso Esatto E andiamoci Assolutamente Ci vogliamo andare Passiamo Perché adesso Siamo vicini al lago Finiamo al lago Esatto Ringursino Ringursino Sì 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 E devo assolutamente Catturare Raihorn Perché l'ho visti E infatti Prendi i Raihorn Che sono esattamente Davanti a te Alla radura diamante Esatto Quindi ci andiamo Prendiamo i Raihorn Mi ricordo male A parte Ci sono arrivato All'alto Cavolo No no Volte che mi hai Rallentato i movimenti Ah Cioè È vero C'era gli strumenti Che rallentano Lo scoppio Cos'era La ghicocca bacata O il fango Carino Guarda Allora Solo adesso Cominciano ad esserci Queste meccaniche Sicuramente poi Non le voglio Guardare per bene Intanto Ma ti ricordi Me l'avevi chiesto Se si sarebbe complicato Un po' L'interaction Pokémon Per fortuna Accidenti Anzi Spero che ci siano Magari Richieste diverse Cioè Nell'ultima mappa Devono esserci richieste Tipo Spaventali Insomma Qualcosa Qualcosa di diverso Allora Vedrai In teoria In teoria E immagino Che poi saranno Sempre Questo tu me l'hai Assicurato E sono pronto Saranno sempre Più attenti Sempre più Vigili E questo Diciamo che Ce ne sono alcuni Che ti beccano Proprio con un cazzo A un certo punto E quindi Si arriva A dire Ok Allora A questo punto Comincio a diventare Invisibile Eccetera O comunque Sai Quando l'alfa Che ti trovi davanti Non è al 40 Ma all'80 Un po' La merda Pesante Ti viene Sì Buono Uh Ah c'è un alfa Fico Sì Appena preso Ok Fico Vediamo po' Che di che livello 45 Fattibile Abbiamo abbattuto Prede ben più pesanti Allievo Ormai sono per te Delle bazzeccole I 45 Ed è giusto così Mostriamo come si gioca Sto gioco Così Allora A noi Partiamo A menare duro Perché tanto Di certo Non si sciocca Però Mi piace Sei sorpreso Rhyhorn È il momento Di ipnotizzarti Ah Evitato l'attacco Non Attento Contact Ok E allora È il momento Di ipotizzarti Forte Era in giro E l'hai vinto Ok Allora Perfetta Lei Mi spiace Mi spiace Tantissimo Cosa è successo No Ho messo Weavile Come È sacrificale Attacchi normali Contro Rhyhorn Alpha Per Togliergli Ok Presa Ragazzi Solo per stavolta C'è un po' Di zig zag Strano Con la camera Perché abbiamo scoperto Cosa copre Questo tipo di estetica Intanto fatemi sapere Se vi piace La prossima volta Ne creo multiple E le attivo E disattivo In base Dove mi trovo Così diventa pulitissimo E sarà bello da vedere Promesso Perdonatemi Ho voluto fare la sorpresa Ma è da studiare Bene 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 Allora A questo punto Lago Sì come no Un attimo Che il mio Dartrix Sta morendo Perforato dai Rhyhorn E ci siamo Tu intanto Avviati Let's go Bene così Bene così Mi piace che ci siano Delle zone a nord Secondo me Siamo al limite Della mappa Si può sgamare qualcosa C'è ancora una bella zonetta Che ti manca Che è carina da visitare Ok no C'è già la nebbia Quindi forse no Forse sì Mamma mia Mamma mia Porca la Quanto sei rotto Oh Ma Ma dove sei? Eh facciamo che ti raggiungo Io te l'ho detto che oggi Era una cosa La landa ossidiana Introduttiva Solo un po' di erbetta Ma Qui c'è robetta Accidenti Ok 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 Devo però cittare So come tu abbia fatto A arrivarci Ma So solo che ci sono arrivato Anch'io in blind Con molta persistenza Arrivo Ok Ah no ok Qui non c'è bisogno Di fare le porcate Secondo me No no Ok qui ci si arriva Leggi Eccomi Allora qui voglio Innanzitutto Fare una riflessione Con voi Non appena Voglio anche leggere bene Che area è Si Non appena Avrai Catturato Burmi O comunque Fatto quello che vuoi fare Con Burmi Vi faccio riflettere Su una cosa E poi Mike Esplorerà tutto Quello che vuole Non è male Che fa sto Burmi Di livello 16 Guarda Burmi Non mi serve Sei troppo aggressivo Guarda sei spaventato Ti libero Ok Ok Oh ma questa roba Chi siamo Rovine Eh si vabbè Brumose Ok Rovine Brumose Brumose Già 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 Come sono in inglese Da scoprire È da scoprire Ma c'è una cosa Su tutte Che mi ha attirato l'attenzione Appena sono arrivato qui Ok Allora Mi dirai poi Ci sto girando alla larga Perché voglio Iuderle con calma Queste cose Non le abbiamo mai Viste prima Mai Mai Mamma mia Oh Bravo La K È lui Ok Ti odio Ti odio Va bene Va bene Ma guarda un po' Ma guarda un po' Eh si quindi stai vedendo Proprio Delle Dei sassi impilati L'uno sopra l'altro Sì E tanti Tra l'altro Ti ricordi per caso Dimmi dimmi L'equivalente Della mappa di Sinno Vuoi provare a aprire la mappa Vorrei farti ragionare Su dove siamo Ok Allora Allora Quello è il lago Quello che stava a destra A destra bravissimi Il lago di Azelf Era Vicino a Pratopoli Che aveva la zona safari Che era Cioè In che senso che era La palude Sì no no Certo certo Su questo sì Abbiamo parlato la scorsa volta Ci siamo E infatti E infatti la palude Dove sta Sotto Esatto Sopra il lago Dove sei ora Cosa c'era Sei una cosa che voglio fare Facciamola Perché secondo me Questa cosa Sta diventando Veramente sempre più figa Vai Voglio proprio prendere La mappa di Sinn E metterla a schermo Bravo Vai Sinn Map Fallo Lo sto facendo anch'io Nel montaggio Lo sto facendo Chiara A dire la verità Nel montaggio della blind run Perché secondo me Sta cosa è proprio figa Allora Vediamo un po' Mappa E' nostro termine in italiano Ehm Perché Conta che è ruotata La mappa di Isui E ovviamente Anche leggermente distorta Però Vabbè Certo Sto cercando un posto Che abbia I nomi delle città A schermo Guarda Ci sono delle mappe Disegnate proprio A mano Delle cose bellissime Allora Sinn No La mettiamo anche qua La mettiamo anche qua Come no Volentierissimo Ragazzi Tanto questo Pokémon adesso entra Vediamo Eccola qua Vediamo Oddio 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 Copiato veramente Una brutta nota Eh no Ce ne sono più che altro Senza nomi Sarebbe da Vabbè Ehm Anche se Se ne guardi una senza nome Poi tanto Sì no no Certo 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 Adesso infatti la La prendiamo E andiamo Allora Voglio prenderne una Del remake Così abbiamo Bravo Anch'io l'ho presa Una del remake Eccola qua Trovata Perfetto Allora Quindi dicevamo Sotto c'è Pratopoli Giusto Corretto Infatti abbiamo visto Che la palude schifosa È praticamente Proprio là sotto Ovviamente Aggiusteranno un po' le cose Per farci Per costruirci Sopra una città Però la zona Safari Rimane Quella zona palodosa Che troviamo adesso A Isui Invece sopra il lago Ti ricordi cosa c'è? Allora Anche guardando la mappa Adesso Metto la mappa Anche per i ragazzi Allora Eccoci qua Perfetto Allora Noi Sopra il lago Che abbiamo qui A destra Sopra cos'era? Era Mineropoli Cos'era? No Era una città Con un grande market Ti ricordi? Ci compravi le robe Gli attacchi Sì Ci andavo continuamente Ci andavo continuamente Ti ricordi il level design? Cosa Cosa La caratterizzava? Allora Beh Aveva tantissime piccole scale No? Cioè Si scendeva continuamente Verissimo E le scale Erano Pietre Rupepoli Rupepoli Allora Allora Aiutami un po' Facciamo un po' Così che mano a mano Questa cosa diventa cementificata E non ridondante Sotto è Pratopoli Sopra è Rupepoli A sinistra è Mineropoli Mineropoli E quella No allora A sinistra dove stai andando Perché io non Allora guarda Partendo dal basso Tu hai due foglie E Pratopoli no? No no Il proprio in basso a sinistra Ah ok 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 Due foglie Sabbia fine Sabbia fine Giubilopoli Giubilopoli bravissimo Canalipoli a sinistra Caneropoli a destra Ah ok quindi La L Ok perfetto Poi in alto C'hai Flemminia Ovvero È quella rossa? Quella blu Ok quella blu Flemminia Perfetto Ok Aspetta No Ho detto una minchiata Perdonami no Ok Quella è Giardin Fiorito mi sa Ok 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 Perché le città sono quelle rosse Sì sì Flemminia è dall'altra parte Perdonami No anche perché non poteva essere Giardin Fiorito C'hai l'impianto turbine A destra Ok Sì ragazzi Perdonatemi Ora giustamente Sono arrivati anche Della chat Ma è così Poi hai Il Bosco Evopoli Ci siamo stati anche Nella versione di Isui Perfetto Evopoli Ok poi c'è Memori Di a destra Bravissimo Il Monte Corona in mezzo Sì Nevepoli è in alto Sopra Perfetto Ok Giù c'è effettivamente Flemminia Le piramidi Quella è sempre blu Ok Quella che vedi Le piramidi Più o meno In realtà sono Monti Che vedi a destra Sono le rovine Flemminia Ovvero L'ignobile stanza Che hanno fatto qui Sì Ok Il quadrato rosso Il quadrato rosso A sinistra di Flemminia È Cuoripoli La città di Fanni Di quella spettro Dove abbiamo fatto Le gare di bellezza Ok Ok In alto invece Abbiamo detto Rupepoli Il percorso Che porta al lago Verità Perfetto 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 Opoli In basso A destra invece In basso a destra Arenipoli La città del capopalestra Elettro Quindi Sopra c'è la Lega Cuoripoli È quella A sinistra Di Pratopoli Sì bravo Bravissimo Perfetto Ci siamo Perfetto Ci sei Nice Quindi Dicevo Rupepoli Che è una città famosa Per le sue pietre Sì Ti direi Che è proprio Le ceneri Che è proprio Esattamente Noi siamo sulle ceneri Di quella città O meglio La base Voglio Voglio assolutamente Vederle È famosa Per quelle pietre Perché banalmente Sono Costruzioni Primitivissime Che si trovavano qui Un tempo Rupepoli Nasce Poi ovviamente Queste robe Verranno levigate Bla 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 E per esempio Le rovine Scompariranno Per sempre Non ci sono rovine A Rupepoli No infatti Queste robe qui Il tempo se le mangerà Poi ci sono Oh Ah che bello Che l'hai trovato Questa era la prima volta Che tu vedevi Queste scritture Per me la seconda Io l'ho vista Per la prima volta Qui E ovviamente Sono impazzito Sembra un alfabeto Comunque Perché E però Comunque c'è Arceus Cioè questa è una cosa Buoia Cioè Ah Regigigas Tra l'altro Non ricordo Vuoi guardare Che Pokémon ci sono Che Pokémon riconosci Eh certo Di nuovo Lo facciamo Abbiamo Come no Magari sono diversi Allora Questo non No È antropomorfo Questo Perché c'era C'era un Pokémon leggendario Di terra quadrupede Che ha tipo le calzine Non mi ricordo Non mi ricordo Come si chiama Un Pokémon leggendario Quadrupede Che ha le calzine Sì che ha i piedini Di un colore diverso Rispetto al corpo Mi sembra Aspetta Forse vediamo Se le chat Riescono a tradurre La mia follia Un Pokémon leggendario Terrakion Sì Terrakion Terrakion Ok 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 Sì un po' Terrakion Ok scusa Hai ragione Poi c'è Oh Allora no Sono tutti caricaturali Però Sì assolutamente Però è bello vedere La spalla di Palkia Così grande Sì è vero È gigantesca Sembra quasi esagerata Chissà perché Questa attenzione È proprio alle spalle Di Palkia È molto caratteristico Come il diamante Di Alga Poi abbiamo Fra Questo qui a destra Mi ricorda Uno dei leggendari Di XY Quindi non credo Però Però Questo qui Con le ali alzate Non si capisce bene Cosa sia Eh sì Perché sì Sì Potrebbero essere ali Ma Potrebbero anche essere altro No Non parlavo di Itran Parlavo di Terrakion Dico sul serio ragazzi Non me lo ricordo Itran Parlavo proprio di Terrakion Di Alga Ovviamente Di Alga Giusto è proprio lui Arceus Questo Accanto ad Arceus Che tra l'altro Arceus Non compie importanza degli altri È vero Hai ragione C'è questa cosa strana Accanto ad Arceus Non mi ricordo come si chiama Non mi ricordo di che generazione è Ma so che c'è una sorta di leggendario Anche abbastanza anonimo Che è tipo un cavallino Un pony Ok Keldeo Esatto Oppure Guarda il mio schermo Forse sì Ok Perché non mi ricordo come ha fatto Keldeo Mi ricordo che esiste Però Guarda le corna Sembrava Esatto Esatto L'ho evocato per essere sicuro delle corna Quindi abbiamo sicuro Mistero Palkia Mistero Dialga Arceus Weirdeer Che tra l'altro È messo accanto Weirdeer Insieme da Reciclicas Eccetera Beh Di Weirdeer Sai che è un pokemon Molto importante Molto sacro Per Hisui Sì Quindi forse Ti direi L'unica informazione che hai È che questa roba è molto sacra Tutta quella che vedi Esatto Evidentemente Qualcosa Sono creature Bravo Qualcosa è rimasto Qualcosa è rimasto Bravo Giusto Giusto E qualcosa è rimasto E poi Questa sacralità di queste creature È arrivata Fino a oggi L'oggi di Isui L'oggi di Sinno Esatto Esatto Ed è una cosa molto figa questa E' accanto Ricordati che ti lessi il mito Secondo il quale Regi Gigas Si è sacrificato Per Fermare un'eruzione vulcanica Magari sono proprio loro È una delle cose Che mi è piaciuta di più Perché Quella mappa fatta Con i resti Dei leggendari Mi è piaciuta Già Qui accanto Non riconosco niente Ma mi ricorda i geni Quelli Quelli che volano I geni Sì no Quelli elementali Sì sì E qui sotto Niente Perché Niente Ah questo cos'era sto su Ci sta Ci sta Non mi dice nulla Potrebbe essere Oh oh Ma no Perché È vero Potrebbe essere Sembra comunque un uccello Questo è vero Sì 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 Perché Ha proprio il musetto Gli manca solo il becco Però Sì È vero Gli occhi sembrano Una parte molto importante Del disegno Sì Esatto Ma avere questi occhioni giganti Esatto esatto E veniamo un po' dall'altra parte Ok Niente Tra l'altro Non so quanto ci hanno pensato Però Era al centro del tempio Era al centro del tempio Secondo me ci hanno pensato Esatto sì Secondo me anche Perché adesso ho visto Che è proprio al centro E queste cose Secondo me questo era un tempietto Qui non si tratta di una città Come per esempio La parte iniziale della palude Questo è palesemente Era un luogo di culto Sì E queste cose Mi interessano un sacco Queste qui le hai ritrovate Anche davanti All'altare di Weirdir Eh sì Stavo pensando Non c'erano Nelle altre rovine Ma c'erano Come altari È anche simile in parte A quello che si può Definire la zona Delle offerte Non è lo stesso materiale Però No Cioè secondo me Questa è la conferma Che la zona delle offerte E questi templi Appartenevano alla stessa civiltà Poi la chat dice Un chat Insomma L'ex tutor dice Potrebbe sembrare Grodon Non lo so Quale Grodon? Il primo Quello a sinistra Oddio per carità Un leviatano Però Può sembrare un botto di roba E niente Nel senso che è una figura Molto strana Questo venere Ricordiamoci anche Una cosa importante Questo è un nuovo gioco di Pokémon Immagino che ci saranno leggendari Nuovi Eh Grodon ha sicuramente La stazza E le grosse spalle Oh è questo? Levati Levati Ti ammazzo 2, 4 1, 2, 3 Mi fa Specie E voglio comunicarti questa cosa Il fatto che qui sia pieno di Ralts Ralts è una specie È molto strana Sono molto sensibili Questi Pokémon Molto legati alle emozioni È strano trovarli qui Nelle macerie Di un luogo di culto Non c'è È vero E Qui continuano a speculare Le stanno Ah se fate bene Di tutti i colori Però L'ho anche visto consigliare troppo poco In effetti Non è In effetti Non è sbagliato Specialmente Mossa la furia Potrebbe essere Clever Potrebbe essere Clever È stato il mio primo pensiero Ok Però potrebbe essere Io in blind ho pensato Magari quello è Clever Perché ci sono anche I Quadratini Scuri Ai lati Che potrebbero essere Le asce Eh sì Lui è marrone Però il fatto che le braccia Sono troppo a Zampa È vero Poi sembrano zampe Guarda Poi qua sotto dicevano Ha sei zampe Quindi quello in fondo è Ghiratina Ma non c'entra proprio niente Con Ghiratina Oddio Ah sì Agli aculei A destra e sinistra Però no Non credo Oddio No Dai Non mi convince Non mi convince Guarda Non hai trovato un altro shiny No scusa No Però Guarda Ah guarda lì Ma oggi è l'Oropoli ragazzi La musica È cambiata Questo è uno Spiritomb Alpha È vero Uno Spiritomb Alpha Sì Un giorno qui ci sarà un pozzo Probabilmente L'abbiamo trovato In Diamante e perle Stiamo riscoprendo Tanto della mappa di Sin No Sotto Dio Dovano Metterci Due anni Tre anni in più Madonna Sono d'accordo con te Mannaggia È un grande Rimorso Perché qui Veramente Se non fosse il brand A uscita annuale Guarda che la tecnica Lo tira giù Perché Ci sono delle idee C'è il gameplay C'è il combat system C'è la volontà Di richiamare davvero La mappa di Sin Lore L'interno pazzo Prego Ho una domanda da farti Questa è tosta Devi dirmi cosa Che pensi Perché ci ho pensato Durante la settimana Ora mi è tornato in mente Il chiedertelo Questo è il momento giusto Vai Pensaci Al di là Di quello che potrebbe essere Parte di risposta Del pubblico E così via Secondo me Ma ti dico Prima ti chiedo Poi ti dico Cosa ne penso io Eh sì Bye bye Pokémon leggente Ok Abbiamo visto Sono state rimosse Le abilità dei Pokémon Certe mosse funzionano In maniera Letteralmente Precisamente A turni Scusa no A turni a tempo Quindi hai La paralisi Che dura tre turni Il buff Che ne dura quattro No Sì sì E hai Attacchi lenti E attacchi veloci Non soltanto Di base come priorità Ma anche come potenziamento Ok Ok Ora Non pensi Oppure Cosa ne pensi di Immaginare Non è utopia del tutto Se si svegliano Un momento Però potrebbe magari Essere per te Una scelta sbagliata Di Rendere Questa Branca Branca Dell'IP Che tu lanci il Pokémon E poi combatti davvero Con le mosse Ma non a turni Cioè con super efficacia Poco efficace Status Elemento Tipo Digimon Intendi Cioè proprio Usando il Pokémon Ho capito bene Usando il Pokémon Tu E magari hai dietro Quando tu fai un attacco Con il Pokémon L'allenatore Con un quadratino Che sembra che dica La mossa che devi usare Cioè tu hai Come la boss fight Contro Clevor Ma tu sei il Pokémon Quindi diciamo Trasformare il tutto In action davvero Esattamente Però con tutta la struttura Di Combat system Con le regole di Pokémon Tu puoi Passare un attacco All'avversario Puoi paralizzarlo Puoi addormentarlo E hai Abilità speciale A me piacerebbe tantissimo La mia paura È che non ne siano in grado Cioè Mentre la parte Action È super acerba Qui Tranne Alla fine Alla fine Ha i suoi momenti fighi Però all'inizio si vede proprio Visto Clevor Quanto è ingessato Dall'altra parte Nel combat system Hanno subito Alla prima Secondo me Azzeccato Una serie di cambiamenti Veramente fighi Vero L'ho già detto Io mi auguro che leggende Venga esternalizzato Come remake Che sono stati esternalizzati Ai LCA Lasciamogli fare Le uscite una volta all'anno A Game Freak Per le nuove generazioni Per le cose Che mandano avanti Il business Non videoludico Quello che gli fa avere fretta I peluche Le robe E leggende Esternalizziamolo E rendiamolo Il videogioco dei Pokémon Che è quello Che tutti hanno sentito Tutti i fan Odorando questo gioco Hanno detto Ah ok Quindi questo è il videogioco dei Pokémon Ok Allora facciamo lo step up Esternalizzazione Così c'è tutto il tempo del mondo Per farlo Perché un leggende esce Magari una volta a generazione Quindi ogni leggende È distante 3-4 anni L'uno dall'altro E E allora sì Allora sì È fattibile Anzi Sarebbe praticamente Abbandonare del tutto La parte a turni E evolvere Al non plus ultra La parte action Che qui invece appunto E' cerda Ma tu pensa C'è tanto questi Vendono 18 milioni Di copie al mese E questa pure Secondo me Arriverà almeno A 18 milioni Leggende Se lo merita Più di altri Vabbè Se ne ha fatte 21 Spade e scudo Ne può fare anche queste Esatto Allora Ti dico Immaginati Ok 3 target 3 Ramificazioni di Pokémon Tutte Tutte Fatte Però immaginatele Bene Ok Sì Abbiamo Leggende Archeos Con Questa struttura Che evolve E ci si augura Migliori molto Poi Generazioni Ossia Quello che abbiamo giocato Con Diamante Perla In Nona Con lo sviluppo E alcune idee Di quality of life Avanzate Di Archeos E semplicemente Di quello che si dovrebbe definire L'evoluzione Del sistema Ludico Del medium Game Freak Quindi va bene E poi Il Let's go Completamente Anacronistici Vecchie meccaniche Remake Degli originali Chiappa fan Della prima ora Persi Che comunque È un pubblico importante Da riportare All'interno di un franchise All'interno Secondo me Sarebbe Una trinità Che funziona Hai ragione Ma funziona Se non Danno tutto in mano A Game Freak No certo Ma perché al di là di tutto Ma vogliamo dirle una cosa Che veramente Io ripeto Fino allo sfinimento Ma uno non è che deve essere bravo in tutto Cioè non è che io e te Per dire No certo Come creativi Siamo bravi in tutto No ci sono delle cose Che ci riescono E delle cose che non ci riescono Nel momento in cui facciamo I gameplay speculativi Pazzi Magari Sono più divertenti da seguire Nel momento in cui Parlo per me Porto Dying Light Oggi pomeriggio Vorrei spararmi io il primo Nei toglioni Perché faccio schifo A quel tipo di giochi No per dire E Game Freak Bisogna dargli atto di una cosa Che ha avuto l'idea dei Pokemon Io non ce l'ho avuta E Sei d'accordo no? Cioè Game Freak Ha tirato fuori i Pokemon Insieme a Satoshi Tajiri E E questa cosa È ad oggi Forse l'idea di business Più forte del mondo moderno Dell'intrattenimento moderno Quindi Gli va Reso atto di questo Che stanno Spesso e volentieri Pensare ai Pokemon In una generazione Ben o male Tranne qualche design Che fa schifo Ci sono dei design Sempre azzeccati I personaggi Lo diciamo sempre tutti Ma quanto sono belli I personaggi di Game Freak Ho fatto una live con un artista Che si chiama Lorenzo Ceccotti LRNZ Come nome d'arte E lui ha detto Cazzo per noi disegnatori Una cosa Cioè quando vediamo I design di Pokemon Rimaniamo completamente Ma proprio dei personaggi Degli allenatori di Pokemon Rimaniamo completamente Devastati Perché Sono perfetti Quelli funzionano sempre Sì Sono perfetti Cioè tu li vedi E dici Ma come cazzo hanno fatto A farlo così perfetto Così giusto In tutto quello che ha E che non ha Però non sono Degli sviluppatori talentuosi Però perché glielo si deve richiedere? Cioè Perché The Pokemon Company Li deve mettere Nella condizione Di essere degli sviluppatori? Perché non possono essere Degli ideatori? Perché non possono dare In mano ad altri La parte tecnica Del videogioco? E questa è la cosa Che non mi spiego Ancora oggi Perché Game Freak Non si può defilare? E lo so E lo so Però Fa male Perché porca miseria La cosa che tu hai detto Sarebbe idilliaca Nel momento in cui Ci sono quattro studi Che fanno quattro cose diverse E Game Freak Che è questo ragno Che tesse la tela E quindi È ovunque E da nessuna parte Purtroppo Non è ancora arrivato Quel giorno E Contrariamente a quanto Si possa pensare Proprio perché Mike Secondo me Ha dato la risposta giusta Non c'entrano niente Le vendite Non le vendite Potrebbe vendere una copia A Pokémon Terrebbero comunque loro Su questo Ne sono Sono giapponesi ragazzi Non gliene importerebbe niente Una copia Dieci copie Mille copie Un miliardo Una Magari cambierebbero Rotta Cercherebbero Per il rotto e la cuffia Di fare qualcosa di diverso Sempre loro Sempre loro Sempre loro E E questa cosa mi dispiace Perché secondo me Loro dovrebbero invece Fare un passo indietro E dire qualcosa Lo sappiamo fare Qualcosa non Facciamolo fare a altri Ora sappiamo che qui C'è stata la collaborazione Di studi esterni Per leggende Pokémon Ma chissà quando è arrivata Vogliamo metterci anche Nell'equazione Covid Mettiamocela E Però Rimane Fatto che È proprio È proprio un peccato Certe volte Vedere che questa ambientazione Se solo ce la immaginassimo Non dico Bella Dico ok Sarebbe stato molto Ancora più Forte Più impattante Decisamente No È un discorso Che mi è venuto Istintivo fare adesso Secondo me Era il momento giusto Ma super giusto Farlo E io apprezzo tantissimo Contate che Ho dato un'occhiata In questi giorni Anche al Voto Metacritic User Che vi ricorderete Essere stato tremendo Sorprendentemente alto Questo sì Questo sì E capisco perché Perché è lo stesso motivo Per il quale io l'ho apprezzato Sì Il Il voto di Spade Scud Era tipo 3 E anche lì Vabbè È un'esagerazione Sì Però Capisco da dove arriva Ok Ne abbiamo parlato tanto Anch'io sì Ecco Qui è praticamente Stato il voto Il gioco Pokémon Col voto User score più alto Della Di chi io Abbiamo memoria Della storia moderna Di Pokémon 3D E questo perché Tanti hanno respirato No Hanno respirato l'aria Di entrare in una capanna E speculare Invece di aspettare Il video di Saidone Capisci No Tra le tante cose Sto facendo un esempio Ma capiamoci E Peraltro Tu conosci il canale Arlo No No È un canale internazionale Arlo È un pupazzetto Tipo Muppet Che fa recensioni Cattivissime Dei videogiochi Forse ne ho visto Un È strabello Arlo Ragazzi Guardatevi i video di Arlo Sono bellissimi C'è tipo la recensione di Arlo In realtà Positiva In quel caso Di Breath of the Wild Dura 3 ore e 40 È un video da 3 ore e 40 Sto scherzando Arlo è Il pupazzo blu Esattamente Lui Arlo è Devastante Bravissimo Guardatevi In inglese Se siete insomma Fluenti in inglese Lo adoro Lo adoro Adoro tutto Dei video di Arlo E soprattutto Il pensiero di Arlo Mi trovo Spesso d'accordo con lui E lui Dopo tanto tempo Ha fatto una recensione Di Pokémon Con leggende Pokémon Archeus Ovviamente evidenziando Tutti i limiti tecnici Ma con Grande entusiasmo Un entusiasmo Che lui non aveva mai avuto Su Pokémon E lui tra l'altro Non è fan di Pokémon Non gliene frega un cazzo De Pokémon Però leggende Pokémon Lo ha divertito Gli ha fatto fare le nottate Gli ha fatto vivere Un ambiente Un'aria Che lui non aveva mai vissuto Con i Pokémon Quindi ecco perché vi dico Che capisco Da dove arriva l'8.1 Del resto Voglio dire Sapete benissimo Che ho dato io a Pokémon Però Credo che Nel cuore di tutti i fan Ci sia una grossa cicatrice Per Come rendono le aree Dal punto di vista Esterico Anzi Soprattutto nei fan Sfegatati Perché noi E ora tu Attraverso la nostra eredità Di questa serie E' vero Sappiamo che cosa sono queste aree Cosa avrebbero dovuto richiamare Cosa richiamano Attraverso più la nostra esperienza Che l'effettivo fattore visivo Eh Eh Sì Sì E dire che questa comunque Non è venuta così male Cioè non è Non è la No Questa non è una delle peggiori Non è quella che abbiamo visto prima Le rovine flemma La stanza quadrata Esatto Con i rettangoli Dorati Picca vacca Però Direi ragazzi Oggi è episodio splendido Secondo me No sono contento Ti stai infilando A un culo Oggi è episodio splendido Secondo me abbiamo fatto tutto Senti A questo punto L'hai visto il lago? Te lo sei guardato? No stavo andando a vederlo Ok vattelo a vedere il lago allora Eh vengo anch'io E poi ce ne andiamo direi A questopoli Assolutamente d'accordo Eh Ok Perfetto Cioè mi permetto di farti Da guida solo perché Sai No ma È perfetto È perfetto Che poi arriva il Ringo e il Dennico E lì Dobbiamo Ah sì Se poi tu mi dici Che Per ora non c'è fretta Non c'è fretta Oh siamo quasi alla fine della seconda Ma Eh ma infatti Infatti sono molto curioso Poi Eh siamo alla terza live Eccolo qua Eccolo qua Con la musica Dove in teoria riposa Sì bella musica Dove riposa Hazelf Ah Durante Poi Ne riparleremo Adesso Già che siamo nell'argomento No Guarda Questo Dicevi scusami Dimmi dimmi Dicevo Che Mi è capitato Di vedere Nell'esplorazione Della landa di Ossidiana Il Lago Verità Dall'alto Eh te l'ho detto Che sarebbe stato tremendo Mio dio Te lo ricordi Te lo dissi Nella prima puntata Che abbiamo fatto Ti dissi Quando arriverai A vederlo dall'alto Capirai Tante cose Porca miseria Lì c'è proprio Lì c'è proprio Un problema grosso Con quelle texture Che ci hanno messo Sopra lì Si manca Acqua Cioè Lì si è veramente arrivati Al fatto che Trovi su Blender Gli adolescenti Che ti fanno Mi sembrava di vedere Non so se tu conoscevi Hai mai visto C'erano tanti anni fa Qui faccio il vecio C'erano E voglio vedere se la chat Se qualcuno se li ricorda Ragazzi sto per tirare fuori dal cappello Una roba Mentre cavalco Verso la quest Stiamo veramente 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 Andando indietro Su qualcosa di molto Affascinante Semi scomparso Ora ci pensano le ya Vi ricordate Quei software Per pc Quindi ovviamente Che servivano Per giocare A fare Terraformazione Tu potevi Che potevi creare Dei Tipo RPG Maker Intendi O in 3D Tipo RPG Maker Ma 3D Nel senso Tu potevi fare Gli ambienti naturali Potevi mettere L'acqua Le cascate Le montate Ecco Ecco Ve lo ricordate Non erano videogiochi Ragazzi Non erano videogiochi No no Me lo ricordo anch'io In realtà Ok Oh mio dio Oh che fico Fico In realtà mi fa schifo Il pokemon Non mi piace per niente Però Però è un alfa Esatto Io l'ho preso prima Mentre chiacchieravamo Ma tipo Due ore fa Tu ti sei Tu ti sei perso Una grande battaglia Finita Bene A livello strategico Ma a livello di sfiga Perché ero in procinto Di catturare Licky licky alfa E si è fatto sdoppiatore No Lo odio Lo odio Lo odio tantissimo Ok Tra l'altro vi faccio notare Un piccolo dettaglio Da non prendere Diciamo come dire Alla lettera Ma quasi Quello è il lago di Hazelf Vicino al campo diamante E abbiamo già associato Hazelf In quanto pokemon Dell'impeto blu Della volontà Daemon Siamo proprio lì Comunque è interessante Che No per scontato questo Avremo contatti con il trio Perché Che ci siamo Ci siamo in contatto con il trio In questa storia Potrebbe retroattivamente Giustificare qualche comportamento Di loro Nei confronti dell'eroe Del bambino Eroico Di diamante e perla Si Allora E' vero Come praticamente se Mesprit Facesse amicizia Con il personaggio Di diamante e perla Perché gli ricorda Quello di Legende Si esatto Esatto Sanno con chi hanno a che fare Ragazzi mi sto per strappare le palle Vabbè l'ho già preso Perché mi sto confondendo con lui Dormi subito Dormi Subito No non fallire con 90 Devi dormire E' 90 di precisione Devi dormire Non mi fido che con bruciatura Si catturi facilmente Per fargli il 45 Dormi Ok Allora lì dai ci sei E' fatta è fatta Oh no è ancora scuttato Ah no è alfa Quello è il simbolo dell'alfa Che paura Mi sono preso Ok Che tra l'altro Significa stat boost C'è ha degli stat boost ovunque lui Ok Mi dai le spalle E io ti prendo Perfetto Perfetto Io ho preso il botto L'avevo a mia discolpa l'avevo già preso esatto esatto fammi vedere allora mai pensare di dimenticare l'efficacia goldac Devi usare i trondata Dio santo Comunque facevano Perdonatemi Un appunto al quale io non avevo pensato Ottimo bravi in chat Il tempio potrebbe essere persino una citazione alla torre memoria Che è quella torre che scalamo in diamante perla che è molto vicina al pozzo di spiritomb E che ha effettivamente la nebbia Nella parte più alta perché tocca il cielo È quel cimitero pokémon Ti ricordi? Sì Insieme al quale si trova l'MT Ok sei nella palude giusto? Sì 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 Ho attaccato un carnivine solo per finire il pokédex di Sudovudo Mi sembra giusto A posto Vero che ha finito il poké di Sudovudo Ti tengo sottotiro Ah c'è un piccolino di Toxicroak Un Krogank Un Krogank è vero? È da me notte sono tutti a nanna Ah esemplari spaventati con una scoppiosfera L'avevi detto prima no? Spaventare ma ancora non hai la scoppiosfera Ah già Esemplari catturati 1, 2, 4 Ok Il quarto lago ragazzi in chat sapete dov'è? Sì Ancora non ci siamo È quello di Ghiratina Esatto È in realtà Ancora più a Est di qui Sì esatto esatto Se la mappa è la stessa In teoria è ancora più a est di qua Che bestie Arrabbiati Oh sono arrabbiati Arrabbiati eh Allora Guarda come ti inseguono Cavolati neri È sera È sera Ragazzi è sera Spero che conti come sera Sì Ok Allora adesso ci proviamo eh Mamma mia Frame perfect Però vedi Ci sono questi momenti di silenzio In cui stai qua Ti diventi 4-4 Sì sì È un software Molto arretrato Però Hanno avuto Un'idea per farlo funzionare davvero bene È piacevole Sono d'accordo È sempre piacevole Sono d'accordo E guarda Te lo spoilerò Per me rimane piacevole all'inizio e alla fine Ok Ok ti farò sapere Assolutamente Poi ovviamente mi dirai tu a fine avventura Guarda si è rimasto piacevole No invece dopo un certo punto mi sono rotto il cazzo Certo 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 ne parliamo Sure thing Allora Ok No dai Che occhio ragazzi Eh sì Mamma mia ma sono Terribili Il Krogank Sì Più che altro Tu non sei mai stato avvelenato? Eh no Eh speriamo che non succeda mai Perché è un panico Oh cavolo È la tossicità di Dark Souls Oh cavolo Ok Io appena Sto cercando di catturarne Due E poi Li cominciano ad ammazzare senza pietà No Era arrabbiato Come va con il Pokédex 8? Eh quasi quasi Ragazzi qua abbiamo preso tipo tutti gli alfa della mappa oggi Wow No davvero cioè Ho fatto un alfa cidio oggi Allora Qui devo fare un po' di lavoro Sono Vai Tu sei impegnato con? Sempre i Krogank per ora Affardi Guardalo Ho provato a fare una cosa diversa dal solito Nance Sto finendo le Megaton Ball Ma potrò sicuramente craftarne Tante Ok No Ho fatto un passo di troppo Mi vedono tutti continuamente Allora Allora Facciamo Yardcore Partiamo con togliere di mezzo Hunter Che quello sicuramente può essere catturato E mi aiuta come il Pokédex Piastra Sì qui c'è un po' di Semper Fi Cominciamo a delivinarli Allora Ragazzi di Di che state discutendo State Come la PS2 Non aveva il 3D Che cosa statti dicendo Fermatevi La PS2 Non aveva il 3D Fermatevi ragazzi Come la PS2 Non aveva il 3D Stop Stop Allora Allora Non ho capito In che senso la PS2 Mi sono perso qualcosa di importantissimo Perché A me pareva di sì Allora Ok Dai Non è possibile Si alzate Cos'è sto? Ah! Haunter Haunter Io Te meno Te meno Haunter Basta Ok Mi dispiace Haunter Ma Ti shotterei tantissimo Così no però E così Faccio anche finalmente Un po' di Haunter Ma che Haunter Allora Io vado a dare un po' di questa a Franco Intanto che tu fai Si Non è possibile Questa è una challenge più difficile mai fatta in Pokémon Archeos Ovvero il Krogank Catturare la gente in sta palude Che poi più che altro ti agrano in 40 lì Esatto Che è strettissima Pure Non vi preoccupate ragazzi Facciamo tutto Facciamo tutto Si ci sono Ci sono Devo No no ma non era per te Mi chiedevano una cosa Ok ok Io faccio il party Di quelli grossi Non mi obbedisco Ho potuto scappare tutte le creature vive di questo mondo Ora Ah ecco perché Perché quando entri nella palude si alza No Ecco perché E allora aspetta Possiamo fare una frega Possiamo fregarle con una combo E' il momento Io li frego tutti adesso Ti frego Ti frego Sei affamato vero? Sei affamato Si Molto affamato Ok Ora Lui è preso poi con le mosse Risolverò Il Pokedex Peccato per Hunter Ma questo è fatto Bene Crea Mega Oh no Ne ho qui con me Sono troppi Però ne facciamo 10 Ok Ok Let's go Io sono alla metà dei punti di Mike Del 7K Gravedere Ti ho tirato il Pokedex Sì E allora non esisti per me Eeeh C'è stato un incidente amico mio Sì Ho visto Terribile E' andata così Oh ecco Un Ippo Ok Oh mio Dio c'è anche Hai la quest Che ti richiede Di catturarne due Uno maschio E una femmina Palla di fango No no ragazzi lo starter tornerà molto presto in parte che avevo un sacco di pokemon troppo sospesi Che cosa sono scontato quanto è veloce Ippopippoli E' pippo Ippopotas Ippopotas Ignorant Ippopotas No no Mi dispiace ma non hai gli occhi Che ti permettono di vedere i tuoi fianchi Mi dispiace ma non hai gli occhi Si arrabbi tantissimo la mamma qui ho Eh si è un alfa Ho fatto un po' di management Sarà presto nella mia poco Solo che Io dovrei fare molto management Per ora Agisco e poi recupero tutto Ok Vi siete calmati un secondo per favore Questo è arrabbiato O è molto attivo E' arrabbiato Va bene Ok dai Sto cercando anche di vedere se riesco a notare differenze maschio femmina C'è una bella differenza tra il maschio e la femmina Osservali bene Aiuto Sono pericolosi quei cosi eh Porche miseria Ok facciamo una cosa Golduck Vai Idrovampata E poi andiamo avanti Stiamo facendo un buon lavoro ma ci abbiamo messo troppo tempo Idrondata Ok Mio dio Ok Fa una paura boia Questo alza Molto più di tanti altri Oh no Scappa È grosso quello eh È grosso È grosso È brutto È cattivo Livello 46 Vabbè Io tra l'altro Ho Non ho il party pronto Tornerò 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 per te Tornerò per te Tornerò per te Ho i pokemon morti quindi Ah ma siamo arrivati comunque quindi posso Eh sì È un momento di riposo e poi corro Tanto poi ricordati che hai sempre le notate pazze per fare il 10 Esattamente Esattamente Esatta Sono pronto a tutto Ehm Va bene Allora Vado a Ripristinare i pokemon e mettere il trasporto qua Certo Weird here Allora No ragazzi sto fallendo miseramente io con le bacche lanciate mamma mia Le sto tirando dappertutto tranne che dove serve Sì ragazzi questo gioco alterna quelle texture a la mount si sporca nel fango Eh sì e le pokeball affondano nel fango Sì More like spariscono Cosa hai fatto? Ho provato a fare un salto Ottimo bravo Era riuscito prima Invece ho fallito Seguiamo il team Tu si guarda anche no skyrim ci dovresti arrivare a lava Facciamo una cosa Si può fare sto salto Oh mio dio Ho risolto un problema Noi ti vediamo tipo in diapositiva adesso Oh no Sì sì c'è un enorme In 64p Vabbè resisto eh Tipo down E resisto a malapena Lascio lì Per ora Eh sì non ti preoccupare Allora questa secondaria Sentiamo che ha da dire Ehi tu Sei la ricercatrice che ha placato il re delle foreste Vero? Sei qui per aiutare ad allestire la base brulla? Ah che bello Un'apprendista della squadra edile Edile Ikutaro Sta cercando una persona in gamba che possa dargli una mano Ok Vai a dare manforte per costruire la base brulla Sì no ci avevo preso tranquilli ragazzi Quattro ore Allora Però l'obiettivo non è qui La base brulla dovrebbe essere vicino Allora l'obiettivo della sub quest non è qui no? Questo è quello dell'obiettivo della main quest No no certo 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 Fatti infatti Ok Oh È bastato avvicinarmi Sì Da questa parte mira Come ti ho accennato Ursa Luna si è infuriato Ma in qualche recesso della sua memoria Deve rammentare ancora il poche passaggio È per questo che quando suono Ah Quando suono il mio flauto Memor Day Egli non tarda mai a mostrarsi Lei tra l'altro ragazzi è antenata di Rika Peccato che la melodia non sia diversa Un pochino No Avrai una soddisfazione sulla melodia diversa Ma Oddio Ah aspetta è lui È lui è lui bravo È lui le prime due icone È lui Perché ha proprio agli artigli Ha le cose sopra Ok Fico È lui è lui Tra l'altro ha la luna e le nuvole sul buso Sì è fatto di fango guarda Ma Quindi è una terza evoluzione di Ursaring? Eh sì è Teddi Ursa Ursaring Ursaluna Ursaluna E adesso lo posso dire Io avevo il gioco in anteprima Ho scoperto di Ursaluna Quando ancora non era neanche stato dataminato niente E poi ho aperto delle carte una sera E in un'espansione di Boh Cinque mesi fa C'è un artwork di Ursaring che guarda la luna Che è totalmente insensato Se non per Ursaluna Che forte È venuto il tuo momento Mostra a Ursaluna quanto vale Ma a me ce le è date le mie vicine Non dimenticare che è un Pokémon caro al team perla Non permetterò che venisca In una delle tue Pokémon Va bene Però Ne creerò uno io Allora Ah ok Sì Ok Che figata Che figata Ok Let's go Let's go Ha mazza Faccio tre turni di seguito Interessante combo Con le mosse speciali Sì Mi ha fatto pentire A me piace un botto Ursaluna ragazzi E' uno dei pochi Nuovi design che mi piace Ecco, spezza un po' Poi vabbè In 3D gli artigli non sono molto Belli, però No vabbè però Bravo Allora Visto che non posso lanciare le pokeball Mettiamolo A riposo Però non è Non è dorato No, è vero Non è dorato Era proprio il fulmine Daver La rabbia ti ha allogorato ormai Mio povero ursaluna Su, lascia che ti liberi dal male che ti affligge Ho qui con me una speciale medicina Che usiamo noi del team perla Si tratta di un antidoto in grado di sanare Sia il corpo sia lo spirito La ammazza veleno Uh, boss fight Talmente potente era poter essere utilizzato solamente su pokemon forti e resistenti Come quest'ursaluna Non sei d'accordo? Mi ho adorato Ah Sembra che si sia infine calmato Tuttavia c'è qualcosa che non mi convince Ecco Sì Esatto Eh oh Non te l'aspettavi eh No Non me l'aspettavo Nien ch'io Molto contento Nien ch'io Al contrario Io all'inizio la mia reazione è stata Minchia Cut content Già cominciamo la seconda mappa Che non c'è la fight Sì sì E per tutto il tempo ho pensato Boh 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 E poi Cazzo Ci stavo Ci stavo rimanendo male E invece Sì sì Ok 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 Aspetta Così Per ora Manualmente Non era vera collera Sei perspicace Giovanotta del team Galassia Esatto Quando hai placato Clevol La luce elevatasi dal cielo Si è stata vista fino a qui Invece dal corpo di Ursa Luna Non è scaturito alcun bagliore E anche nel mezzo della sua furia Non ha mostrato alcuna luminescenza Inoltre aveva addosso questa sostanza Sembrerebbe una sorta di polvere Quella ragazza del team Diamante Maru Perché mai è venuta a riferirmi Di Ursa Luna Oh i boh Stavo per scordare una cosa essenziale Suona il flauto Memor Day Memor Day Da brava Nuova mount Sono estetica o Non ti dico niente Certo La sapeva già Uh L'astrageo Ok Di tipo terra Quindi hanno aggiunto il tipo terra Ursa Ring Si vedeva dalle vostre super efficaci Eh sì Ursa Luna ha un talento naturale Che è lo scovare oggetti Che si trovano sottoterra Può cercare tesori E di sotterrare ciò che è sepolto Addio Weirdeer Ma ora va giovanotta E ragguaglia il direttore Del team Galassia Su quanto è avvenuto qui Ursa Tesori sepolte Se ursa Luna individua un tesoro di fronte a sé Scatterà nella sua direzione Una volta trovato un punto in cui reagisci in modo vistoso Puoi cercare il tesoro Ok Però stavolta le laser si trovano in maniera più esplicita Quindi Ma no Bellissimo Che figo Ormai ho imparato a memoria anche loro Bellissimo Sono praticamente i Lucky Emblem Sì 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 Oh Al Lucky Emblem Poi sono messi veramente carini Eh per ora sì Per ora sono veramente carini Strano che ti faccia l'animazione Anche se non può fuggire a volte Si dici l'animazione della cattura È un Pokémon quello Che cosa sono? Sono Ah sono i piccini Ok I Barboach Esatto Allora Vediamo un po' No ma dai ti dice Per fortuna Vediamo Tutti i giri Ti fa Sentire il puzzino sempre più forte Esatto vedi? Esatto È vicinissimo Sta impazzendo Sta impazzendo Senta il puzzo di robe buone Ammazza Eccolo Ragazzi In live alle 1.25 Abbiamo dimostrato Che non serve leggere internet Per trovare le antiche poesie Questa sera Ore 1.25 Sabaku No Maiku Dimostra che Qualsiasi persona Normo dotata Appena presa La mount di Ursaluna Può usarla Per trovare un oggetto Perfettamente scriptato A 20 metri di distanza Cosicché il giocatore Possa scoprire La lordi leggende Pokémon Arceus Senza guardare Un sito internet Grazie Era Ok Io Ok Diciamolo Ragazzi Io ero tesissimo oggi Perché In pre-show Entrando su Discord Con Francesco Mi ha detto Oggi Tu Tu dimostrerai qualcosa Di importantissimo E io E io dicevo Se non lo faccio Tanto vale fare a Rakiri Ed è finita Chiudo il canale È finita Ragazzi Ho fallito Non è scriptato Non è scriptato Ve lo dico prima No Non è scriptato Al contrario Le poesie si trovano Solo in punti specifici Della mappa Semplicemente Fatto apposta Che se tu sei curiosone Dici vabbè Uso Ursa Luna Appena l'ho presa Sai una nuova mount La uso E c'è accanto Ma tra l'altro La poesia Tu qui hai In maniera Obbligata Tra virgolette Le Lastre Ma hai degli oggetti Simili a diamante perla Antiche poesie Antiche poesie Dalla calligrafia Sembrano attribuibili A un unico autore Certamente Aspetta Sì O aspetto Che prendo l'ordine giusto Leggi Leggi Vado Ossa di pokemon Alla corrente Abbandonate assieme Ai miei pensieri Arriveranno al mare Trascinate dal fiume E andranno per il mondo Seguendo altri sentieri Quante ossa Sei portata via Alla corrente Finora Quante altre Trascinerà via ancora E ogni volta Che il fiume Nei flutti Le inghiotte Scheggi di me Sono nulla ridotto Ma ragazzi La community internazionale Ha scoperto Degli old notes Si chiamano in inglese Una settimana Ma neanche una settimana fa Tre giorni fa Sì Tre giorni fa Una settimana fa E' uscito il gioco Joe Merrick Di Serebi Ha fatto un tweet Qualche giorno fa Due giorni fa Tipo E la gente Ma cosa sono? Ma cosa servono? Non lo so Ma comunque Io continuo a dirlo E a questo punto Chiedo a chiunque Anche sotto questo video Di pokemon Di Linkarmi Non in maniera letterale Perché altrimenti Youtube Blocca il commento Però Scrivermi il canale Eccetera A cosa mi riferisco Quando Saido In privato Poi ve l'abbiamo raccontato Ragazzi Mi disse Senza volermi Rivelare nulla Perché non sapeva Se anch'io avessi Beccato questa cosa Ed era In realtà Ovvio che sì Ah ok Delle Senza fare spoiler Di quelle cose Di Elden Ring Che erano Palesemente Non Adeguate Al CNT Erano probabilmente Un'alpha O qualcosa E lui mi disse Guarda che Secondo me Siamo tra gli unici In assoluto E io Ero contentissimo Ed emozionato Ma non ci credevo minimamente Perché conosco La community souls Sono pazzi Io non ho ancora trovato Un solo video Che ne parla Neanche uno Però sai Quella era veramente Stronza Cioè dovevi comunque Giocare Avevi ragione Avevi ragione No quello sì Però questa Dai è facile No questa 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 è L'hai appena trovata La provi Dai sei curioso La provi Comunque sì E negli strumenti base La poesia Quindi oggetti chiave Puoi leggerle Quante volte vuoi Qui ti do Una spintarella C'è una Un libro Che parla Canalipoli Di rimettere Le ossa Al mare C'era un libro Che parlava Proprio di Rendere grazie Ai pokemon Che ci danno Da mangiare E gettare Le loro ossa Alla corrente Quindi chiunque Abbia scritto Questa poesia Potrebbe aver ispirato O essere l'autore Di alcuni libri Della mitologia Di Canalipoli E Ti stuzzico È tipo La meno Importante Questa Questo è il tutorial Non dice niente E pensavo E pensavo Che la pietra Era legata A spirit Ma non pensavo Non pensavo Che sarebbe apparso Così Invece sì Ok ok Fico Mamma mia Quindi devi fare La pazzia Sì Sì Io l'ho fatta Ma è divertente Anche questa Anche questa Secondo me È un bel enigma Ambientale Come gli hanno Anche perché Poi c'è la mount volante Quindi diventa Bravo Leggo la lastra Leggi pure la lastra Vi anticipo Semplicemente Che le poesie Ci porteranno via Un po' di tempo Nel senso Che ce ne saranno Alcune Sulle quali Sarà il ragazzone Per primo A dire Oh ma che cazzo Ho appena letto Ci stiamo mezz'ora A parlarne Quindi Sono molto Molto importanti Sono Credo La L'elemento Di loro Rosso Che il francese Abbia mai avuto Anche sopra Canalipoli Ci sono certe robe Scritte qui dentro Che sono fuori di testa Sopra Canalipoli Sì sì Io lo metto Anche sopra Canalipoli Perché ci sono Delle robe Proprio Devastanti Che parlano Dell'origine Di tutto Cose che vedrai Non sai quante sono Lo scoprirai presto Che figata E leggiti pure la lastra Eh l'ho già letta Non l'ho detta Neanche ad alta voce Perché è una delle nostre È una delle nostre Bravissima Questa lastra È composta dai frammenti Della creazione Universo Cosa che già sappiamo E la cosa importante È che Ti dice che praticamente Tutte le poesie Che troveremo Probabilmente Sono della stessa persona Esatto Esatto E a questo punto Se mi dici Che dice cose folli E pazze Vuol dire che è una persona Importante O comunque no Non necessariamente Non una persona importante In senso assoluto Importante Anche se dimenticata Ecco Sono molto curioso Di questa cosa Io ti ho già preparato Tutti i punti Qua allora tu non le dovessi trovare Ok Ok Ma Sono sicuro che le troverai Però ti dico Nel caso Quando tu scoprirai Avrai Io non ti dico niente Non ti dico quante sono Non ti dico No infatti Infatti non ho idea Di quante possono essere Capito Quando tu Suoni il campanellino E mi dici Guarda Ho bisogno di una mano Io te la do Ma se no Vai tranquillo Comunque ci accingiamo Praticamente Alla fine dell'episodio Signori Anche perché sono quasi L'unica Dimmi tu Infatti Dimmi tu Però Adesso Dovremmo tornare Da Sorwan Quindi Se Ma certo Può essere intelligente Farlo E poi Magari La prossima volta Torniamo qua Cioè domenica Che è ora Tra due giorni Neanche Perché se no Siamo in mezzo Di sabato Andiamo da Sorwan Torniamo al villaggio Poi torneremo qua in mappa E finiamo le pochissime cose Che ci mancano Ad esplorare della mappa Ragazzi È finita Cioè Ci manca la parte Sotto il lago valore E Praticamente A Mike Mancano Gli Popotas Che in realtà Gli Podon Che sta menando adesso Sì ma Non l'ho preso alle spalle Durereà molto poco Ci vediamo da Sorwan Il mondo è finito Sono Sono Fottutamente spacciato Comunque La tua è una dipendenza Da cattura No ma intanto Intanto che Tu fai questo Sentiti libero Di combattere Contro questo Il Podon Ok Va bene Perché io Cerco di fare una cosa Che farà piacere Alcuni veterani Ma mi devo mutare Un attimo Va bene Va bene Perfetto Tolgo lo schermo? No 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 Ok 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 Come state ragazzi Cercherò di Di ringraziarvi al meglio Più tardi Spero che la live Stia piacendo Di cuore La gola viene distrutta Da queste dirette Distrutte Dove è il melmosino Come va? Sembra Bene Se non si suicida Non bene Ho mentito Ok bene Se la nostra teoria è giusta È 100% Perché secondo me Non ha mai fallito Non mi ha mai fallito Nella landa di Ossidiana Mai Neanche una volta Adesso Posso dirvelo Questa mount In blind run È stata ribattezzata La mount Che sente puzza di lore E quindi È automaticamente Diventato il mio Pokémon preferito Fantastico È uno dei Cioè il Pokémon Che sente il puzzo Di teoria È lui Adoro A beccare le meccaniche Di gioco Di questo tipo Ragazzi Mi piace Beccata Ok Allora Via Sei riuscito a prenderlo? Sì Oh bravissimo Via Eh ma ormai Ho una tattica Abbastanza Stabile Io ragazzi Non sono riuscito A evolvere Tre Pokémon In blind Ma posso anche dirvi Che Ursaluna Non è fra questi Ma L'ho preso Completamente a caso Perché poi dopo Sono andato a vedere Quello di Ursaluna E l'ho preso Completamente a caso Vabbè Si chiama Ursaluna Magari ora Non so Non so come Si possono Rivolvere i Pokémon Ma Immagino che Sera Però C'entrerà In qualche modo Stavolta Tu stesso All'inizio Tu mi stuzzichi Tu mi hai detto Eh I giochi Cambiano Magari Guarda Hai visto Che la Luna Cambia le cose Mi fai incontrare Ursaluna Io L'ingranaggino Si muove Allora Ecco ecco Bene 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 Poi Eh si C'è quella bella Carta con Ursa Che guarda La Luna Eh Non sarebbe Proprio nulla Di importante Non esistesse Ursaluna Va bene Vediamo Allora Laven Voglio sono qui Per umiliarti ancora Ah tra l'altro Ti anticipo Che Ursaluna È un altro Dei Pokémon Che fa le Skyrimmate E quando sente Puzzo di Lore Praticamente Va più veloce E quindi Skyrim Ma Ha dei livelli Folli Fantastico Ah Cominci a essere impegnativo Livellare Ok Quindi torno al villaggio Ok Non è ancora il momento Ragazzi Mi spiace Però La domanda è Visto che mi si è aggiunta Una meccanica fondamentale Per me Eh Sì Posso torno Cioè Non è La mappa che ho già esplorato Potrei Non per domenica Però per settimana prossima Potrei farci un giro Assolutamente Come hai già fatto per la landa Assolutamente Perfetto Perfetto Will do Will do Certo se trovi una poesia Non la leggo Non la leggo Però Sono sicuro Comunque Qualcosa Cioè Non ho trovato tutti I fuochi fatui Nella landa di Ossidiana Però Comunque 5-6 L'ho preso Allora Io sono Ah Stai facendo una Figo Ah sì Aspetta Torna indietro Torna indietro Torna indietro Ok Non preoccuparti Qui Non farò di nuovo Il Pokédex Già L'ho completato Di là Ah tu vai pure avanti E io ti guardo Ok Presto All'ufficio del direttore Se Discord è d'accordo Perché in realtà Sei in Qualità Enkel Aspetta aspetta Allora ti raggiungo Così vedono anche i ragazzi di qua Mannaggia il Pip Eh ma credo sia la tua connessione qui Lo so Lo so Oggi c'ha voglia di far così Cambierà Allora Eccomi qua Ok Sto entrando Vai pure Vado Prima Giusto Ok Mr. Suguru Della squadra di vigilanza È perplesso Riguardo all'evoluzione Di Kurumpo Parla con lui E svolgi le ricerche del caso Va bene Vuole sapere come lottare A fianco del suo parceriso Parla con lui E svolgi le ricerche del caso Va bene Ok Carino che sia Un percorso Sì Ma mira abbiamo un problema Lascia parlare me Lilligant La nostra regina delle creste Ah è un pokemon E anche lei appunto E anche lei impredda una furia improvvisa Quella Maru Lo sapeva ma non mi ha detto nulla Regina Se un pokemon regale è femmina Ha il titolo di regina E non esistono Lilligant maschi Quindi Ma lascia perdere Non abbiamo tempo Per le spiegazioni Chi ci deve dei chiarimenti È Maru Ma quella disgraziata È sparita dal villaggio E l'ultima volta Che l'ho vista Era in trattoria Che si rimpinzava Di moci di patate Il che non mi sorprende Vista una bontà Dei miei mani e caretti Mi auguro Che Maru Non abbia nulla a che fare Con la collera Di ursaluna La cosa potrebbe scatenare I nuovi contrasti Tra i team diamante e perla Ma dimmi Sorwan In qual caso Cosa farebbe Il team Galassia Non prenderemo le parti Di nessuno dei due Vale a dire Favorire una fazione Vuol dire Mimicarsi l'altra Non siamo giunti In questa terra Per metterla a ferro e fuoco Hai ragione In effetti Sei stato tuo A proporre di parlarci In modo informale Amichevole Per evitare attriti Non avrebbe molto senso Che ti impiccassi ora Impiccassi ora Impiccassi un po' Ancora meno senso No Dopo tutto quello che ha fatto Impiccarsi ora Hai forse qualche buona idea Su come sistemare Una questione Non saprei Anche secondo me Non saprei la risposta giusta Aspettate ho un'idea E se chiedessimo aiuto a Ursa Luna Il suo fiuto Può stanare qualsiasi cosa Se ti sei guadagnata Rispetto di Ursa Luna Allora di certo Saprai come ammanzire Lilligant Le botte Lo so Le botte Sempre le botte Io vado avanti Ci vediamo all'arena della ribalta Il sito regale di Lilligant Mira Cerca di sistemare la faccenda Senza farti di venici Siamo giunti in questa terra Per coltivare la pace Non possiamo seminare discordia Vabbè comunque Comunque Semplice tutto quel che vuoi Ma non è il Team Rocket Cioè Non è neanche Cioè non è il gruppo È un target Leggermente più alto Comunque Non è Sono d'accordo Guarda che qui ti hanno Praticamente parlato esplicitamente Di equilibri politici Esatto 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 Soro Ti dice io mi faccio i cazzi miei Col cazzo che prendo le parti In questa cosa Perché non ci voglio mica finire Stronzo Che se poi faccio le parti Di uno o l'altro Si incazza con me Quindi vedetevela voi Al massimo Io vi posso dare Mira Che vi aiuta Visto che sembra avere Questa propensione Per i Pokémon Ma noi non siamo venuti qua Per fare nulla Noi siamo venuti qua in pace E ti dico Ogni tanto torna a parlare Con gli NPC Esatto Che sono in giro Che spawneranno anche di nuovi Perché alcuni hanno Dei bei background Su Sorwan Che non voglio che tu perda Eh ma Di solito C'è sempre la preoccupazione Di proseguire Ma lo voglio assolutamente fare La prossima volta Domenica Cominciamo con un giro Guarda Io ti direi che ci siamo Siamo arrivati a conclusione Sì È un bellissimo finale Perché Che prossima volta Ce ne andiamo direttamente Di nuovo all'acquitrino vermiglio Dopo aver fatto Appunto Diciamo L'esplorino Finiamo tutte le parti Che sono ancora oscurate Della mappa Così Al 100% E poi ce ne andiamo All'arena A trovare questo lì Che ne dici Perfetto Dopodiché ragazzi Finita anche la seconda mappa In Praticamente Alla metà della quarta live Secondo me Finiremo La seconda mappa Perfetto Perfetto Secondo me Stiamo andando Con la giusta velocità Ok Ok Soprattutto poi Grazie anche ai tuoi Alle tue Escursioni Diciamo Notturne Che stanno aiutando Perché chiaramente Ci aiutano a magari Tagliare quei tempi Del livello 10 Ci sono comunque Gameplay utile E divertente per te Però chiaramente Che poi ci rischiano Di far andare off Schedule Perfetto Esatto Esatto Ci sto Vediamo solo Che dici su Guru Ma che storia è questa Il professore sostiene Che il mio beautyberto Sia un cascoon Ma si vede chiaramente Che è un silcoon Su Guru Vabbè Tu sentirai Tu stai aiutando Il professore A compilare il Pokédex Giusto Ho un favore da chiederti Cattura un silcoon In modo che io possa Verificare senza ombra Di dubbio Di che specie È il mio beautyberto Va bene Va bene Ok ok Perfetto Non credo di averne Purtroppo Li ho liberati Spietatamente Ok Bello Eh sì No Domenica faremo anche Qualche altra questa Ragazzi C'è quella di Polica Ancora da fare Giusto O controlla bene Il quest log Magari Adesso c'è tanta roba Da fare Potremmo cominciare così Non so se Sono stato abbastanza istintivo Senza controllare Che cosa Se ho trovato Maschi e femmina Io un po' Un maschio Sono tre maschi Infatti non ho visto differenze Ok ok Eh Lo faremo Lo faremo Ci penso io Ci penso io E poi mi direi tu Quando non fare quest Quando farne Quale farne Insomma Sì 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 Allora guarda Fammi vedere il quest log Dimmi quali hai Che ti dico quali puoi fare Allora Ok Ponita vorrei lo facessi in live Quindi Ponita in live Qui abbiamo Piccoli Vroomple Crescono Prendi il silk Vorrei che tu la facessi in live Anche quella Ok poi Questa auguri Esatto Fidati Un po' Ok Poi Vabbè Focofato non importa Eh certo Ah no aspetta No cos'è No è un'altra cosa Questa la vorrei in live Anche questa Ok quindi per ora Siamo sempre in live Più merci sugli scaffali E questa la posso consegnare adesso Finiscila tranquillamente C'è una Allora più merci In realtà anche quella in live Perché c'è un C'è piuttosto Quella degli Hippopotas Puoi fare per i fatti tuoi Ok Ok Perché tanto È la roba del Dei kimono Dei vestiti Più merci sugli scaffali Ha una storyline E quindi vorrei Viverla insieme Perfetto Allora la consegno la prossima volta Alla ricerca di foglia mare È per La medicina Mentre Anche quella Sarebbe carino farla in live C'è un bel dialogo Perfetto Ah sì La Roselia Però è completata Questa puoi farla Questa puoi farla da te Puoi Perfetto Lo facciamo la prossima volta Perché È un secondo Basi Brull Nuovo capo di base La facciamo insieme Tanto torniamo alla mappa Molto monster hunter Questa cosa Qualcuno aiuti Mi a power rip Sidak Da fare insieme 100% E poi l'arte della lotta Con pace riso È quella anche La facciamo Le facciamo tutte Guarda che sono quest brevi Tutte Perfetto Cioè magari Cominciamo la live prossima Dicendo Ok adesso facciamo tutte le quest Della Della Ma certo Ma certo E intanto Finiamo l'exploro Fate le quest Finito l'exploro Andiamo a fare il boss Che ne dici? Assolutamente d'accordo Mi piace tantissimo Bella lì Bella lì Ragazzi non voglio fargli perdere cose Che poi possono dare spunti Di riflessione interessanti No ma infatti al fine Tutte le quest che ha Ce l'hanno Sono contento del momento poesia Perfetto Eh Io Non te ne sei accorto Ne ho già trovato un'altra Ma perché mi ricordo a memoria dove sto Quindi Se le trovi Ti ho detto L'unica cosa che ti chiedo Di non leggerle in live Magari mi dirai Ho trovato un'altra poesia La leggiamo No no Tanto c'è l'opzione Cioè Non leggere adesso Esatto Però ti dico Cioè Per me è stato divertente cercarle Perché sono nascostine E ovviamente sono piene Cioè Sei pieno anche di altri input Che non sono Poesie E quindi Insomma Ti devi mettere lì Ti devi segnare in mappa Ok questo punto non è niente Quindi magari se ci ritorno E ci trovo un altro oggetto Che mi responda Non può essere una poesia Le poesie sono solo in punti fissi E ovviamente questo Te lo dico già ora Anche per brevità Del nostro content All'inizio io non lo sapevo Per una parte della blind Sono stato convinto Che fossero un proc random Poi piano piano Facendo esperimenti Ho capito Che erano in posti fissi E E non vi dico Quante sono ovviamente Le poesie che si trovano Perché Questo Deve scoprire Mike Uguale Identico Quante sono per mappa Bla 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 Bene Ragazzi Quattro ore e sedici Porca troia Fantastico Abbiamo fatto tanto Abbiamo fatto tanto Oggi è stata una bella diretta Mi sono divertito un sacco Top Allora Alla prossima Caro ragazzone Rimandiamo a sigla Per andare a letto Ma certo Come sempre Dai Va bene Allora più tardi Alla prossima assolutamente Grazie della serata Perfetta Ciao caro Ciao Ciao Eccoci qua Grazie di tutto il supporto Ragazzi Ho visto Stupenda partecipazione Non posso mai Darvi la giusta attenzione In questi momenti Però Avete visto C'è la nuova grafica Che adesso Duplicherò in varie zone Dello schermo Così che io possa Dinanimizzarla Per darvi Purtroppo niente Shiny La scommessa è stata persa Ragazzi Però Grazie di cuore È stato stupendo E vedo Sub donate da anonimi Tanti che siete tornati Grazie Anche senza Necessariamente Venire ringraziati in diretta Grazie del supporto Preziosissimo E Permette diverse cose E molte altre È mio compito Non fermarmi Grazie di cuore E Vi mando Da Diego E Ci vediamo molto presto Domani Monster Hunter E ci sarà un esperimento Di grafica Nuova Anche lì Non si ferma OM dia lavoro Su 100.000 cose Grazie di cuore Vado a riposare Un po' la gola Vi preparo il raid E ci aggiorniamo E E Ah Canattila Stavo per mandarvi Un video Stavo per mandarvi Un video Guarda Tecnicismi Con i tecnici Ne riparleremo A presto ragazzi Un piacere Ah e ho anche ricevuto Un raid Oh Cavolo Me lo sono perso Ah Dark Andros Grazie Grazie Dark Andros Benvenuti ragazzi Un piacere Proprio adesso Stiamo chiudendo E allora Ai ragazzi che sono appena arrivati Non posso Che donare Un ricordo Che spero possa Attirarli A questi contenuti Almeno un pochino Alla prossima ragazzi A presto 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 Tra lande sconfinate, ostili e mitiche Noi studieremo ogni po' che è moscovato Abituati a venerarli come dei Non guarderei il tuo mondo mai più come prima Saidonia svela sempre nuove verità Sabacco in sintonia con l'energia divina Schivare la sua abilità Siamo fatti di storie trasportate dal vento Come un filo invisibile che ci lega dentro Un nuovo mondo con i Pokémon Show me a power with the Pokémon Potenterà di duratacco che Ricordi e d'avventure sbloccherà Un nuovo inizio con i Pokémon Scudito, busce e vola via con me Qualche emozioni tu che avancherai Leggendo e Pokémon a cutie blind Un nuovo mondo con i Pokémon Your very one legend is about to begin Your very one legend is about to begin Pokémon against Pokémon Un nuovo mondo con i Pokémon Un nuovo mondo con i Pokémon Un nuovo mondo con i Pokémon